giocati a tavolino e online. Analizza e rivedi le partite dei più forti giocatori al mondo con i commenti in diretta, l'analisi in cloud, l'esploratore delle aperture e le table base. Trova tutte le informazioni chiave sull'evento, programma, premi, risultati, articoli, biografie dei giocatori, spareggi e molto altro. Puoi anche votare secondo il tuo pronostico, sfidando altri utenti. Esplora subito la pagina chess.com slash events da computer o con le nostre app iOS e Android. Segui gli scacchi come non hai mai fatto prima. Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio a tutti. Felice giornata internazionale degli scacchi. Ritorniamo con il Bullet Chess Championship. Oggi quarta giornata. Commenteremo il turno 3 dei ripescati e poi la finale vincitori. Con noi torna il maestro internazionale Pierluigi Piscopo. Ciao Pierluigi. Ciao Maria. Buongiorno a te. Buongiorno a tutti i nostri amici e come giustamente dicevi, buona giornata internazionale degli scacchi a tutti. Bene Pierluigi hanno appena cominciato come primo match che è anche l'unico che si disputa in questo momento. Quindi non ci sono doppi match ma soltanto un match per volta. Vediamo Bortnik contro Paravian. Che cosa ne pensi intanto Pierluigi? Beh direi leggermente favorito Paravian. Probabilmente più esperto ma parliamo di Bullet. Quindi gli schemi saltano subito. Qui stanno giocando un... è cominciata come un sistema giobbava. Sembra che il bianco stia un pochino meglio. Però chiaramente le mosse si susseguiranno velocissime. Quindi è davvero molto difficile fare pronostici. Se dovessi scommettere qualcosina, scommetterei proprio su Paravian. Ecco. Ecco intanto anche i giocatori in cam che vediamo molto molto concentrati. Il tempo vediamo che per Bortnik ci sono più di 10 secondi in meno rispetto a quello di Paravian. Sì, il tempo è un fattore determinante. Vediamo come riuscirà Bortnik a gestire la situazione. La vedo un po' dura perché qui siamo in presenza degli alfieri di colore contrario e c'è vantaggio materiale anche posizionale da parte del nero. Quindi direi la prima partita mi sembra ormai chiaramente decisa in favore di Paravian. I pedoni sul lato di re sono molto più pericolosi di quelli del bianco sul lato di donna. Perché come vedete i pezzi neri sono molto ben coordinati. E in pratica, attenzione perché qui ha sacrificato un pezzo, Paravian. Non può fare subito G2 a causa di torre G5 scacco. La torre va a difendere il pedone andando da dietro. E vedete come i pronostici non sono affatto facili negli scacchi in genere. Oh, attenzione. Ho messo qualcosa strano. Ok, sì, ha perso un pezzo. Ha sacrificato un pezzo. Esatto, ha sacrificato un pezzo pensando di vincere promuovendo il pedone. Così non è stato. E adesso perderà, probabilmente ha perso, infatti. E si rigioca a colori invertiti Pierluigi. Eccoci qua, siamo 1-0 per Paravian. Ma non sono sicuro che abbia perso, Maria. Ha vinto per il tempo. Ha vinto per il tempo Paravian. Ha vinto per il tempo Paravian, a quanto pare. Sì, sì. Ha sacrificato un pezzo per vincere tempo. Quindi in questo caso ha avuto ragione. Vedremo parecchi di questi casi Pierluigi, perché qui è 1-0, quindi neanche un secondo di incremento, senza pietà. È terribile, senza pietà, senza tregua. Qui giocano la famosa variante dei quattro pedoni contro la difesa a Lechim, un mio cavallo di battaglia. Devo dire che il bianco anche qui sembrava essere uscito in vantaggio, ma poi il nero si è ripreso bene, ha un pedone in più. Chiaramente i cavalli bianchi centralizzati sono fortissimi e sappiamo quanto con poco tempo i cavalli siano capaci di fare cose terrificanti. Ecco qua, un bello scacco in E7. Adesso il bianco ha sempre un pedone in meno, però il re nero è un pochino indebolito. Direi tutto sommato equilibrata. Se il bianco non perde un pezzo, lo perde. Adesso vincerà il pedone F6. La speranza del bianco è quella che, come sappiamo, torre-cavallo contro torre non si riesce a vincere, ma in questo caso ci sono ancora dei pedoni, quindi il nero ha qualche margine residuo. Il tempo in questo caso è equilibrato, 20 secondi per parte. Secondo me il nero può provare a vincere. In una partita a tempo lungo poche possibilità, qui le possibilità sono un po' di più. Vediamo se riuscirà a creare delle reti di matto. Pierluigi, se dovessimo fare una bet, tu che cosa consiglieresti ai nostri amici che ci seguono? In generale sul match, Paravian. Su questo match? Sì, Paravian, secondo me, lo vedo un po' più solido, un po' più completo. Comunque Bortnik si è riportato in parità. Qui ripropone questo attacco, questo attacco Giobbava. Ripetono praticamente le stesse mosse. In realtà è una buona idea perché così risparmiano un pochino di tempo. Ovviamente il bianco ha in serbo un miglioramento. Forse farà alfiere per C6 che mi sembra interessante in questa posizione per poi fare cavallo C7. Chissà se questa è la sua idea. No, cavallo E3, attacca l'alfiere F5, bel cavallo centrale in D4. Secondo me i cavalli saranno protagonisti in questi match, sono sicuro che andrà così. Qui scommetto sul nero perché ha delle colonne aperte. Può fare donna A5 o A5 A4, può attaccare un pochino sul re avversario. L'alfiere in G7 è anche molto attivo, infatti glielo cambia qui giustamente, credo. C'è H4 in presa, io me lo mangerai sto pedone, un bel pedoncino che è buono per il finale. Se lo mangia un po' dopo, A4, attacca la donna, non si sa mai. Adesso potrebbe mangiare G2, A3. Gioca anche A3, indebolisce un pochino l'arrocco. Vediamo se ne riesce a sfruttarlo, arriva H4. Sì, come vedete i pedoni passati, nelle partite così veloci, fanno delle carriere fulminanti. Possono andare a donna in un attimo, uno se li dimentica e scuote la testa. Paragiana, adesso dopo... Esatto, donna per H4, sembra molto pericolosa, ma arriva donna per C2, si difende. Difende H8 con tempo, adesso torre E2, sembra interessante, ma su torre E2 forse c'è donna H8 scacco. Donna G7, bella mossa, donna in fianchetto, adesso B2 è attaccato, ma come continuare l'attacco non si sa. Torre E3, ok, torre per A4, re che si schioda. Adesso minacce di matto reciproco con pochi secondi. Torre C1 non deviava la torre? Ok, alla fine dopo matto, meglio ancora. Torre C1 l'ha giocata alla fine. E si ripete la difesa alle Khin, quindi sembra che i due abbiano scelto queste due varianti. Sì. Che strana mossa questa qui, vediamo se fa cavallo per E5, sì, e vuole cambiare le donne, giustamente vuole cambiare le donne per giocare posizioni un po' più semplificate. Qui il bianco sembra stare meglio, una specie di francese con vantaggio di spazio, il re può andare in D4, c'è una partita famosa di Stainitz con questa struttura. Il bianco sta chiaramente meglio, credo, non deve cambiare gli alfieri, però se non cambia gli alfieri c'è torre C4 scacco. Bella mossa a B4. Bene, infatti adesso le case bianche sono di completo dominio del nero per Luigi. Sì, 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 bella mossa a B4 perché ha intrappolato la torre B5, ma in realtà brutta mossa a B4 perché ha permesso lo scacco in C4, ha perso il suo 4. E come si sa adesso la torre si libera. Eh sì, adesso è brutta, adesso è brutta per il bianco, devo dire che il nero finora sta facendo dei risultati pazzeschi, forse è più facile giocare con il nero bullet, enti lo sa. Ah, interessante. Eh, ha perso il pedone C, vediamo, però si è semplificata la posizione, vado ad attaccare G3 che adesso rimane sguarnito e il rischio di perdere anche H4 dopo torre G4. Perderà anche H4. Il re si attiva un po' ma sembra non esserci molto per Luigi, infatti abbandona, si rigioca, siamo 2 a 2, di nuovo in parità, un match molto equilibrato finora. Adesso si cambia, sì, molto equilibrato, partita d'alfiere di re, questa è una delle varianti topiche con alfiere B4 scacco, D per E4, cavallo per E5, attacca il punto F7, adesso vediamo come difende il cavallo in E5, beh, qua mi sembra che il bianco stia giocando molto bene, anche F4, bella aggressiva, mi piace, donna D3, nessun problema a dare l'alfiere, occhio alle scoperte sulla donna, ok, donna E3. E qui si intravedono attacchi su G7, giustamente. Vediamo gli alfieri, no, che comunque puntano sulla rocco avversario, cavallo D5, un bel cavallo al momento. Torre per F3, no, torre per E8, mangia prima lì, tanto la casa E1 è controllata, anche il punto H2 è difeso, adesso il bianco ha questa coppia degli alfieri, ma non mi sembra che sia particolarmente forte, direi che il nero sta bene in questa posizione, entra con la torre in settima. Torre F2, attenzione, la barra precipita. F3 per H2 scacco, che deviazione, bellissima, si sarebbe persa la torre dopo tutti i cambi, e poi si becca anche alfieri G3, deve dare la donna. Continua la legge del nero qui, c'è poco da fare, c'è poco da fare, anche poco tempo, Bortnik, devo dire che... Bortnik sbuffa, si, Bortnik sbuffa, devo dire che gli do pochissime possibilità di sopravvivere, H5, H4, H3, il re bianco è completamente esposto ai pezzi avversari, adesso cavallo G2 scacco, costringe a dare anche la torre, ma non demorde, Bortnik cerca di opporre una strenua resistenza, ma credo che abbandonerà fra poco. Sb per A6, G3, ecco. E Paravian si riporta in vantaggio, vediamo se stavolta sarà Bortnik a pareggiare subito i conti, di nuovo un Aliekin per Rigi. La terribile difesa a Aliekin, qui il bianco cambia, mangia di donna, carina, perché poi magari vuole fare donne a G4, ok, gioca in maniera avventurosa a Bortnik, cambiano le donne, vede Paravian col bianco è piuttosto disposto a cambiare le donne, secondo me invece tatticamente è più forte, io fossi in lui non cambiare le donne, qui non vuole cambiare gli alfieri campo chiaro, fa alfieri 2, lo schema ricorda molto da vicino la partita vista in precedenza, ma sembra che Bortnik sappia giocare benissimo queste posizioni, qui si gioca col pedone di donna isolato, la teoria attuale di questo tipo di posizioni dice che il solo pedone di donna isolato non è sufficiente per perdere la partita, pare che ci sia stato un grosso errore con torre 4 e pare anche che il nero e il bianco non ne abbiano approfittato, il bianco non vuole vincere qui, in queste partite il bianco non vuole assolutamente vincere, qui sta un pochino meglio, ma il nero è anche molto centralizzato, molto attivo. Vediamo un po' se il finale di pedone è promettente. E come questo finale? La barra dà un vantaggio enorme al bianco. Ebbè sì Maria perché entro e poi faccio C4 e B4. Sì c'è una maggioranza sulla la di donna, no? Sulla la almeno più lontana, forse questo è un fattore, no Pierluigi? Esattamente. E qui è tutto bloccato sulla la di re, vedete? È tutto bloccato. E prova a rompere un po'. Ma adesso faccio anche B5 e C5. B5 A per B C5, come la vedi questa? È più veloce il bianco, il re e C6, sono d'accordo. Ok C5 deve fare, C5 e C6, no? Questa è l'avanzata tematica, vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Il pedone è più lontano. Gioca tecnicamente perché adesso fa Re e C5 e si va a mangiare i pedoni. Ok, cattura tutto. Ci ha provato a giocare tre, sperando forse, chissà, in qualche premura. E vince il bianco, Maria vince il bianco, incredibile. Con due donne ce la farà, dare matto ce la fa, ce la fa, ce la fa. Quindi vince il bianco e quindi 4 a 2. Paravian cambia un attimino il trend, non si fa recuperare immediatamente. Primo break da parte di Paravian. Continua sempre questo sistema Giobbava praticamente. Sembra che il nero stia molto bene. Quindi se qualcuno fra di voi aveva dei problemi in repertorio contro la variante con cavallo C3, giocate come Paravian che sta andando benissimo. Ok, forse qui il bianco sta un po' meglio, a patto di cambiare gli alfieri camposcuro. C4 mi piace, io farei B3 qui, bravo. E vediamo se riesce a cambiare gli alfieri camposcuro. Alfiere D2. Che si porta in D2. Wow, attenzione, si minacciava matto in B1, quindi alfiere C3. Ed è fortunato che la casa G5 è controllata, se no ci sarebbe stato scacco e poi matto in B1. Adesso alfiere E7, facendo finta... Alfiere F8, ok, alfiere A3 ha giocato. Si è disunito qui però, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sì, 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 sì. Qui bianco dovrebbe vincere. Qui Bortnik potrebbe accorciare le distanze? Occhio un pochino ai pedoni sul lato di re, però credo che i pedoni sul lato di donna saranno più veloci. Torre C7, torre A4, adesso vuole difendere, vuole difendere, ok, vediamo, ci sarà una gara di velocità. A7, ok, torre dietro ma torre A5 che chiude. Ti mangio e faccio alfiere per C4 e c'è torre A8 scacco, torre G8 scacco, ok, torre G8 scacco, arriva questo tatticismo. Abbandona Paravian, per cui Paravian adesso col bianco, siamo 4 a 3. Sì, ha scelto questa linea con F4. Sì, un po' particolare questo schema con alfiere B4, io nei miei anni dicevo in cui ho giocato questa variante, raramente mi hanno giocato così. Adesso vediamo un po', perché alfiere per F5 potrebbe essere molto forte in certi casi, cavallo E4 bella perché il cavallo si era schiodato, adesso il nero ha un pedone in più, però attenzione perché il bianco ha quest'alfiere in E4 molto forte, adesso potrebbe anche riprendere il pedone o fare magari prima B3, vediamo se vuole difendere, no, non difende C4, lo sacrifica. Adesso ci potrebbe essere forse una variante tattica con alfiere per B7 per poi fare donna A4 scacco, oppure giocare semplicemente per il compenso, quindi magari donna A4 la fa, la fa il fiere per B7. Ed è sbagliata. E non ne approfitta il nero. Ok, forse adesso è di nuovo in vantaggio, ma è curioso, no? Ha perso un pezzo, perché non si è accorto che dopo cavallo F3 la casa C6 era difesa, o meglio non era più attaccata, quindi ha perso un pezzo e adesso i due cavalli neri. Ah, un doppio ora. Ai 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 ai, quattro pari, si ricomincia, difesa russa. Di nuovo pari, cambia per la difesa russa. Com'è questa linea per Luigi? È interessante. E' interessante perché si gioca una posizione simmetrica in cui l'alfiere in C2 sta messo molto meglio rispetto all'alfiere in E7, sempre pedone di donna isolato, adesso il bianco giocherà chiaramente per controllare le case centrali, una bella cavallo F3, meglio il bianco qui. Questi alfieri mi piacciono, dato l'alfiere campo chiaro, bello, questo tatticismo non si può catturare per la scoperta alfieri H2, si perdeva la donna, molto interessante. Però il vantaggio è chiaro, io non avrei cambiato le donne col bianco, adesso i due alfieri sono molto molto forti. Ok, c'è un pedone in più per il bianco, vediamo se riuscirà a sfruttarlo e toglie la coppia degli alfieri al nero. Adesso sono due pedoni in più, adesso sì, però posso portare il pedone in b6 probabilmente. Vediamo se posso fare in qualche modo, non glielo fa fare, vedi, perché se avesse portato il pedone in b6 sarebbe stata più difficile. Forse torre a1, torre a5, ok, devo portare il pedone più avanti, per essere veramente pericoloso. Intanto lo sostiene con la torre? 3-3, poi farà torre b7, immagino, e poi b5, la fa subito, b5, giusto. Ok. Alfiere d4, ok, deve difendere. Sì, il nero si prepara a fare un po' di controgioco, ma è difficilissimo qui, perché non c'è... Torre c3. Ok, vediamo. Se la vuole giocare senza le torri, confidando nel pedone un po' avanti. Wow, attenzione. Sì, perché se mangi poi alla fine c'è b7, quindi... Esatto, che non si difende. Ha perso il pedone, però si mangerà h4 e... Alfiere d4, no! L'infilata, adesso faremo un ripasso di tutti i temi tattici fondamentali. Guardate, Bortnik ha infilato tre vittorie di file, eh? Sì, ed è ora in vantaggio, incredibile, veramente. Vediamo un po' anche i nostri amici su chi hanno puntato prevalentemente. Allora, su YouTube non si pronunciano più di tanto, nel senso che siamo al 50% preciso per Luigi, quindi, insomma, non c'è un favorito al momento, mentre per quanto riguarda la nostra bet, in vantaggio con il 79% Bortnik. Quindi tutto il contrario di quello che avevi detto, Pierluigi, non si sono fidati. Questo io ringrazio molto gli amici da casa, ma fate bene, perché giustamente... Diciamo che Bortnik mi sembra quasi sull'onda giusta, no? Sai, quando negli sport un giocatore ha preso l'onda giusta, esso non lo ferma più nessuno, perché gioca più veloce, più sicuro, ha sempre buone posizioni. Ha preso fiducia. Re F3, contraattacca il cavallo, che viene difeso con E5, alfiere D2 sviluppa, ma il nero adesso si raddoppia sulla D, crea molta pressione. Così che il bianco sacrifica un pedone, però adesso si cambiano un po' di pezzi, il cavallo uscirà e il nero ha un bel pedone in più. Chiaro vantaggio del nero, chiarissimo vantaggio del nero. Sì, ecco che arriva anche il Re, C5 acceca un attimo l'alfiera. Adesso arriva il Re al centro, il cavallo ritorna anche in gioco, il nero piano piano cercherà di fare H5, G5, H4, spingere i suoi pedoni. Ok, parte con G5, F3, Re D5, ok, il cavallo che va ad attaccare il bisetto. Sì, bisogna stare attenti, sta creando comunque... Sì, il bianco sta spingendo. Il bianco sta spingendo, nel medio termine però H5, H4 sembra molto forte. Adesso però rischia, no? Che questi pedoni, ora che sono bloccati... Se ne è mangiati due, difende B7, C6 bella, perché altrimenti su B per C6 ci sarebbe stata B7, però adesso due pedoni sono tanti. Sì, è anche sbagliato il tatticismo, però pochissimi secondi, pochissimi secondi, attenzione, attenzione. Ha più tempo il bianco, ma forse sta recuperando, guardate, vediamo se chi flaggerà chi... Guardate com'è veloce, com'è veloce, qui il nero, velocissimo. Il nero è stato più veloce in questi attimi finali. Veltnick, velocissimo, ragazzi... Ha recuperato. Sì, sì, continua con la russa Paravian, questa strana variante alfiore D3, C3, alfiore C2, che non è male obiettivamente. Interessante, è vero? È una francese simmetrica in cui il bianco sta un pochino meglio. Adesso cavallo E5, ovviamente, poi farà forse anche torre E1, mangia subito un E4. F3? E fa F3. Alfiore G5, ok, fin qui fa aggressivo. Facile da giocare, donna D3, no? Sì, donna D3, un'altra idea, dopo che si minaccia alfiere per F6, ecco, no? Questa è una minaccia. Con poco tempo si torna ai fondamentali, no? Non si fanno cose troppo... Adesso cavallo G4 si può fare o no in questa posizione? Pur di deviare il cavallo, giusto? Ecco, chi arriva a cavallo G4? Arrivano proprio le cose semplici, non... Ah, però gli mangia con l'alfiere, lo mangia con l'alfiere. Ha liberato la diagonale con lo scacco in E1 intermedia, cavallo E4 si piazza lì davanti. Chissà anche il sacrificio di qualità come sarebbe stato, torre per E4. Eh, 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 a me sarebbe piaciuto. Però giocano più tecnicamente, giustamente, loro sanno quello che fanno. Il pedone H è debole, arriva a Re3, può cadere anche il pedone E4, però la torre potrebbe entrare in seconda per Luigi. Sì, sì, adesso entra... Ah, non gliela fa entrare, che bravo. Che bravo, adesso vediamo se fa... Però che fa? Torre H8 per fare torre B8. Ok, interessante. Sì. Vedete come sempre giocano attivi, eh? Questa è una cosa da imparare, come giocano attivi con le torri. H3! H3! Due punti esclamativi! Mossa stuple... H3! Mossa stupenda! Stupenda, stupenda! Che bella, questa è una bellissima mossa H3. Stupenda. Mossa da studio. E qui Paravian si fa sentire. Qua Paravian dice, eh no, non ci sto, caro amico mio. Scendi da quest'onda buona, ti riporto sulla terra. Bellissima H3. Occhio che c'è ancora il pedonino H7, eh? Esatto, la donna lo controllava da H3, controllava la promozione. E un attimo, un attimo a distrarsi, eh, in queste posizioni. Sì, ok, ma sta arrivando anche un'altra donna. Oh! Ci ha provato, ci ha provato qui. Bortnik. Però... Ci ha provato, non ha funzionato. Sì, Paravian è riuscito in tempo a dargli matto. Serratissimo, eh? Sì, 5-6. Ancora, ancora la rete. Per Bortnik. Ah, Luigi, la particolarità di questo evento è che per vincere bisogna avere uno stacco di due punti dall'avversario, quindi non basta avere tipo mezzo punto, un punto di vantaggio alla fine, no, dei 30 minuti in questo caso. Per ricordo che per il girone dei vincitori invece sarà di 45 minuti. questo è avvenuto dalla semifinale in poi, quindi il fatto, no, che ci debbano essere due punti fa sì che quando finisce il tempo qualcuno può anche arrivare a meno uno, per poi continuare a giocare ancora. finché uno dei due non arriva a due. Superata la sesta partita, a quel punto basta anche il minimo vantaggio per vincere il match. Sì, è un formato molto divertente, molto sportivo, qui due punti non ci sono, in questo caso c'è i due alfieri, possiamo dire, come vantaggio. C'è la coppia degli alfieri. Non ha visto il fiere C7, la mossa prima, che attaccava torre e cavallo. Bisognava fare torre per D8 prima, torre per D8, torre per D8, torre per D8, il fiere C7. Altrimenti avrebbe cambiato prima la torre con scacco e salvato il cavallo, giusto? Esatto, esatto. Va bene, chance persa, vediamo però cosa succederà ora. Coppia degli alfieri contro coppia di cavalli, questo è molto interessante perché da un lato noi cavalli sono insidiosi, però gli alfieri sono comunque molto forti, soprattutto qui che c'è un pedone passato. Sì, spero per lui che non si sia accorto di aver mancato la nostra vincente, perché in questi casi, in questi casi, se ti rendi conto di aver perso, guarda che forti questi cavalli che si buttano lì in mezzo. Sì, intanto gli ha tolto la coppia. E adesso sta bene il nero, perché riuscirà, ah, semplifica ancora il bianco. Anche un pedone di vantaggio il nero, attenzione il pedone G. Che bravo, che bravo il bianco perché è partito per la lunga marcia, si è fatto sta passeggiare, anche il nero. Ma Torre C1 vuole mettersi davanti, arrivano entrambi, il bianco ha l'iniziativa, gli prende tutto questo cacco, gli cambia le donne e vince col pedone. È fenomenale. Guardate, Portnick ha fatto un gesto tipicamente... Che gesto Pierluigi, scusami, ce lo siamo persi, voglio descriverlo. È del tipo... Mi hai pareggiato, accidenti. Del tipo indica, andare, andare, lontano. Ok, si ricomincia, siamo di nuovo 6 in parità, 6 a 6. Vediamo adesso se questa sconfitta non pregiudichi comunque il buon match che sta facendo comunque Portnick. Ci sono dei bei tatticismi comunque. Devo dire che chiaramente la qualità del gioco è leggermente più bassa rispetto alle partite lampo, rapidi, ma è inevitabile. Però i tatticismi li vedono, li vedono in polizia. Comunque Pierluigi è incredibile la velocità con la quale giocano e comunque tante volte sono anche molto precisi, con così poco tempo a disposizione. Guarda che bella mossa il fiere per F2 scacco, perché adesso li mangia esatto. Molto bella, perché ci sarebbe stato cavallo per E4 scacco sul re per F2 e poi avrebbe mangiato un G5. Cavallo per E4 e cavallo per G5. Invece lui chiaramente non ha fatto così, però si è preso l'inchiodatura con alfiere E3. Attenzione qui è caduto F7 e vediamo perché potrebbe arrivare una torre, forse qui ci sono un po' di idee. Gioca H4. C'è l'alfiere in A6 che controlla in F1 e c'è il cavallo in A4 che sta messo male. Alfiere G6, ma non sembra tanto bello alfiere G6. Scacco, il re in H2 non può andare per il doppio, donna H4, donna E2. Attenzione si minaccia matto in D1 e arriva! Questo non l'avevo visto, matto in D1, me lo sarei preso proprio con tutto... Il cavallo è bellissimo, toglie le case principali al re. Arriva il pedone E, torre di 1. Di nuovo Bortnik ripete questa sua tipica smorfia, deve essere un segno... E siamo 7 a 6, quindi Parajan ritorna in vantaggio dopo essere stato anche sotto e vediamo. Ok, qui ancora un Aliechi. Certo, Maria, giocare così tante partite devono avere una resistenza pazzesca. Sì, è vero Pierluigi, ci giocano una marea di partite, c'è tante veramente... Cioè questo dicevo l'altro giorno, no? Che il fatto di giocare così tante partite in un tempo così limitato, anche per l'importanza dell'evento, c'è un rispendio di energie notevole. Io non certo tutto, non mi ricorderai più se sto giocando col bianco o col nero, francamente. Sì, e poi c'è anche chi ad un certo punto comincia ad avere problemi magari con la mano. Abbiamo notato Carson che forse, insomma, ad un certo punto faceva sempre un movimento con la mano. Probabilmente qualche problemino c'è stato. Vediamo, c'è stato un alfiere per a casetta. Si è slogato un polso. Ha sacrificato un pezzo, secondo me, senza rendersi conto che non c'era un grande attacco. Ci prova. Sì. Ancora ci sono questi pezzi pesanti che si infiltrano. Adesso su alfiere c3 seguirebbe torre. Cavallo c1 giusto in tempo. Donna 1. Bella torre d5. Adesso c'è anche f5 in presa. Se lo mangia, giustamente. Difende da torre. Ora si minaccia torre e5. Torre e8, ancora meglio. Così difende dal fiere. Minaccia torre f5. La fa lo stesso. E qui sta per cadere f1. Bisogna difenderlo. A donna per f1 scacco, Maria. Matto. Stiamo vedendo matti del corridoio. Come se piovesse. E poi, a proposito di puzzle rush, per Luigi voglio ricordare che oggi, essendo la giornata internazionale degli scacchi, se scrivete punto esclamativo CES Day qui su Twitch, vedete che CES.com, tra le varie proposte, mette anche a disposizione un mese gratuito su CES.com, con l'abbonamento massimo, così che potete usufruire di tutti i prodotti in maniera gratuita. Insomma, i vari problemi, insomma, tutto quello che c'è su CES.com, potete appunto, insomma, usufruirne in maniera gratuita per un mese. Anche per chi ha già fatto la settimana di prova, quindi, insomma, che di solito, no? Potete fare soltanto una settimana di prova in tutta la vita, no? Con l'account che appunto avete scelto. In questo caso, anche per chi l'ha già fatta, c'è a disposizione un mese di prova, quindi per tutti. Volevo giusto dire questo, ma ci sono anche tante altre proposte. Mi raccomando, andate a leggere l'articolo e a vedere quello che, insomma, vi fa piacere. È un'ottima idea, ve lo consiglio, perché è un allenamento molto buono e poi in questo momento c'è questa promozione particolare, quindi se vi va di diventare più bravi, provate con questi fantastici strumenti di allenamento. Sicuramente Bortenic e Paravian li hanno usati, perché mi sembra che siano molto molto bravi. Adesso vediamo un po'. Questa è stata una partita rocambolesca, ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte, entrambi hanno scosso il capo più volte, soprattutto Paravian, a dire il vero. Il match è proprio sul 7-7. Qui leggero vantaggio del bianco, perché c'è un pedone in più. Vediamo se riuscirà a valorizzare questo pedone. Adesso sono due pedoni in più, quindi direi molto ben avviato. Francamente le speranze del nero di salvarsi sono molto poche, perché qui il bianco sacrifica uno dei due pedoni e punta tutto sul lato. Non si può. Anche il tempo, c'è più tempo. Attenzione perché un secondo solo ce la farà, ce la farà, ce la farà. Ce la farà o non ce la farà? Sì, sì, che ce la fa. Sorride Paravian, ci ha provato, però insomma, Bortnik è stato più veloce e Bortnik si riporta in vantaggio. Siamo 8-7, questa partita potrebbe essere decisiva, visto che manca 1 minuto e 0-6 alla fine del match, e quindi se Bortnik dovesse vincere, il match si conclude qui. ovviamente se dovesse vincere entro la fine del minuto, altrimenti si continua. Ancora la terribile difesa Lequin che sta dando grandi risultati. Spinge, spinge tanto, Paravian, guardate come sta spingendo tutti i pedoni sul lato di Re, bel controgioco con B5, H5, questo farà anche G5, esatto, non può fare cavallo per i 5 perché c'è G per F6, intermedia, quindi deve spostare il cavallo, credo, ma G per F6 non vince un pezzo? Sacrifica un pezzo, ha sacrificato un pezzo, forse è anche l'opzione migliore perché si scondura così l'attacco. F5, molto bella, sfrutta l'infigliatura, attacca H5. Apre la posizione, adesso forse mangerà, ah, mangia G6, mi aspettavo che avrebbe mangiato invece E6, ma più o meno lo stesso, ora cavallo E4, sì, sembra molto forte, il cavallo va in C5, credo, vuole attaccare la posizione avversaria, B3 forse, no? B3 sembra buona, Fierak H6, che bella, bravo, perché crea una rete di matto, la prossima mossa sarà a cavallo G5, a cavallo F6. In F6, sì, G5 è anche molto bellina. Attenzione, attenzione, perché sembra che il bianco abbia vinto, ma deve ancora trovare come passare, il re nero installo, ma non ci sono colonne per le torri. Ecco, ora cavallo G5, lo ha riposizionato Luigi, sul tuo consiglio. Oh, cavallo F7, non l'ha vista, ragazzi, di nuovo, boh, buh, 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 no, c'è qualcosa che non va, non vuole, non vuole farla, dice, è il nero, no? Quasi che, eh, il nero adesso la ripresa, vediamo, cavallo F5, muovi, muovi, Paravian, l'unica speranza, l'unica speranza per il bianco adesso è muovere veloce. Ci sono una marea di pedoni per il nero, attenzione. Sì, ma il bianco c'è il cavallo e deve muovere veloce. deve muovere l'unica speranza che muova veloce. Paravian sta rischiando di perdere il match, perché anche è scaduto il tempo, incredibile, attenzione, perde per il tempo, ma anche di posizione, e Borteni continua la sua avventura nel Bullet Chess Championship. Questa partita immagino che sarà annullata, quindi, complimenti, ad Alexander Borteni, mentre Paravian, invece, è definitivamente eliminato. Continuano a giocare, sono in completa trans agonistica. Sì, finché magari non ricevono un segnale chiaro, vanno avanti. E così sono gli scacchi, Paravian stava lì per vincere, avrebbe riequilibrato il match, Borteni ci ha creduto di più, devo dire, vittoria meritata, perché mi è sembrato più combattivo, più determinato. bravo, bravo. Non è facile Pierluigi, devo dire? No, non è per niente facile. Ok, un attimo solo che adesso vi sistemo qui. È interessante vedere che hanno fatto una bella preparazione per il match, no? una buona preparazione anche dal punto di vista della scelta delle aperture. Questa Alekhine è stata terribile. L'Alekhine ha portato veramente tanti punti a Bortenic. Solo alla fine Paravian è riuscito a avere posizioni migliori, quindi diciamo a trovare il modo di affrontare questa difesa Alekhine. però nonostante questo il tipo di posizioni si sono dimostrate più adatte magari a questo stile di Bortenic. Avete visto un giocatore molto combattivo, che non ha esitato quando ha potuto sacrificare anche del materiale. Paravian nel complesso mi sembra un giocatore un po' più completo, più brillante, più bravo, soprattutto non negli scacchi a tempo lungo, anche un gioco magari un pochino più profondo, però nel bullet le qualità che servono sono altre e Bortenic è stato superiore e secondo me meritatamente va avanti. Molto bene Pierluigi. Allora, io direi di dare un'occhiata al bracket e dare un po' di informazioni sui match di oggi. Andiamo a vedere il bracket. Allora, il primo match di giornata, che è appunto il match tra Bortenic e Paravian, lo abbiamo seguito e c'è stata la vittoria di Bortenic. Bortenic che più tardi invece giocherà i quarti di finale contro Narodiski. Narodiski, che ricordiamo ieri, è stato battuto nel girone dei vincitori dai Karnakamura perdenti a 12, come vedete in alto nella semifinale dei vincitori. Ora, seguirà il match tra Tang e Martinez e il vincitore tra i due poi più tardi spiderà Magnus Karsen. Quindi, subito dopo il match tra Tang e Martinez, seguiremo Narodiski contro Bortenic e poi più tardi, subito dopo, il vincitore tra Tang e Martinez invece giocherà contro Karsen. ma non finisce qui. Questa è la giornata più lunga delle 5. Finiremo circa alle 22.30 per Luigi, 22.15, insomma. Quindi preparati, ci aspettano molte ore di scacchi. Preparate popcorn, bevande, gelati e quant'altro possa essere utile per affrontare questo clima così, diciamo, infuocato. E poi, come dicevo, più tardi, dopo il match di Karsen, ci sarà la finale vincitori tra Icaru Nakamura e Alireza Firuza, perché ieri Pierluigi Alireza Firuza ha battuto Magnus Karsen per 14.5 a 11.5 e infatti Karsen è sceso poi nel girone dei ripescati. Quindi questa è la situazione. Karsen, che ieri ha fatto molta fatica, comunque partiva tipo da un 3-0 contro Firuza. Eh, si vede che Firuza a un certo punto ha inserito il turbo, Karsen comincia a farsi grandicello, pure lui, e bisogna correre con questi ragazzi, no? Molto, molto più giovani, anche se Karsen chiaramente si mantiene in forma, è molto bravo, no? In questo tipo di gioco, però a volte succede che pure lui rimane dietro, quindi bravo, bravo Firuza, complimenti. Ok, quindi direi di fare una breve pausa, così che ci prepariamo per il prossimo match, che vi ricordo ancora una volta, essere quello tra Tag e Martinez. Vi invito come sempre a lasciare un like alla nostra diretta YouTube, se non l'avete già fatto, siamo a 39 like, mi raccomando, proviamo a raggiungere subito i 100 like. Poi, per chi non ci seguisse ancora sui nostri social, punto esclamativo social, mi raccomando, seguiteci anche lì, così per avere tutte le informazioni, tra l'altro c'è anche l'informazione della giornata internazionale degli scacchi, con tutto quello di cui potete beneficiare, e anche per gli amici di YouTube faccio lo stesso, vi condivido il link social, tra l'altro mancano veramente pochi iscritti all'account Instagram per raggiungere i 5.000 follower, veramente, insomma, meno di 10 persone. Facciamolo, facciamolo. Festizziamo, no, proprio oggi. Sì, non state lì a pensarci, dai, forza. Quindi vi metto tutti i riferimenti qui. Ecco, quindi vi aspettiamo anche sui nostri social, e poi, come vi dicevo, punto esclamativo Chess Day, potete appunto vedere che cosa vi proponiamo per festeggiare la giornata internazionale degli scacchi. Pierluigi, sei contento di essere arrivato proprio oggi per questa grande giornata? la nostra festa, di tutti noi? Certamente, certamente. Sono felicissimo, sono orgoglioso del nostro pubblico che ci dà tante soddisfazioni, che ci ripaga enormemente, no? Perché è chiaro che noi ci impegniamo, ma l'impegno nostro sarebbe ben poca cosa se dall'altra parte non ci fosse questo pubblico così gentile, prodigo di belle parole, di like, e che sta crescendo sempre di più fino a diventare una comunità che, insomma, oggi festeggia la giornata internazionale degli scacchi. Quindi sì, sono molto contento di essere qui a festeggiare insieme a voi. Sì, bene. Allora, ci vediamo tra pochissimo. Mi raccomando, lasciateci un like alla nostra diretta YouTube e state con noi perché stanno per arrivare tanti tanti match interessanti. A tra poco! Ti interessa diventare uno streamer di scacchi come i tuoi creator preferiti? Magari come i Karu, Gotham Chess o Chess Society? Sì, guarda questo! Mamma mia! Il community streamer program di Chess.com cresce ogni giorno. Che tu abbia appena iniziato a streamare o il tuo pubblico sia già ampio, ora puoi collegare il tuo account a Chess.com e promuovere il tuo stream sulla più grande piattaforma di scacchi al mondo. Basta collegare il tuo account alla pagina Chess.com slash settings slash connected accounts. Seleziona la categoria scacchi su Twitch e inizia la diretta. Su Chess.com non avrai più pubblicità, comparirai nella nostra lista di streamer in diretta. Il tuo profilo Chess.com mostrerà il tuo streaming su Twitch e la tua diretta sarà collegata alle tue partite sul nostro server di gioco. Digita! Community Streamer in Chat e fai crescere subito le tue dirette. e fai crescere subito le tue partite. e fai crescere subito le tue partite. Grazie a tutti. 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 No, 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 non voglio giocare contro di lui. per Luigi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. è tornato in F8. a tutti. a tutti. a tutti. si è perso. qualche tatticismo. cade a tutti. quello che non ha funzionato. è molto solido. a tutti. a tutti. la fa adesso. a tutti. si porta avanti. con i cavalli. cavalli. si perde la donna. che mossa. è ancora la Samish. qui la debolezza. del re nero. a un certo punto avrà il suo peso. re h1. mi piace. ok. contro gioco su h7. che non va. da nessuna parte. si può abbandonare. qui penso. qui si può abbandonare. perché dopo a 4. sarà impossibile. i pedoni. sono fortissimi. in questa occasione. può giocare. ecco qua. che sta inchiodando. vantaggio del bianco. alla fine. come è finita. il bianco. il bianco. h4. il bianco è tornato. ecco. la partita di tennis. e devo dire. che c'è questa assonanza. fra i due gioco. mi sono confuso. di nuovo. quindi da 4. devo dire. che non l'avevo. mai visto in diretta. l'opera. buone posizioni. con il bianco. che significa. h5. a che punto. il bianco. il bianco. perché sa che sta sta. non ha ripreso. c4. il bianco. c'è. è stato il bianco. in a8. c'è il bianco. io vi consiglio. di guardarvi. guarda ugualmente. alla fine. del match. è chiaro. ci sta pensando. f4. vediamo. penso che. martinez. abbia perso. un pochino. il filo. non mi sta. non mi sta piacendo. difende. quella casa. a4. da una casa. di fuga. adesso. deve cercare di passare. e mezzo. ok. vediamo. c'è. ora può. e niente. penso che. dopo. dopo. ci stiamo. e... e molto altro. e... 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 ... e... ... e... ... ... e... ... e... ... e... ... ... e... e... ... ... ... ... ... ... e... ... ... ... ... ... ... e... e... vuole entrare con la torre... e... e... attenzione... vedete che è disturbato Bortnik dalla velocità dell'avversario... anche da un punto di vista del ricevere le mosse che arrivano a raffica queste mosse... quindi da fastidio... quindi siamo 3 a 1 per Narodischi... vediamo un po' i pronostici che cosa dicono su youtube il tifo va tutto per Narodischi... guardate com'è già entrato con un cavallo in C6... adesso guarda Maria credo che parte l'aspetto psicologico e pratico anche da un punto di vista prettamente scacchistico... sembra che le difese di Bortnik contro D4... siano molto meno affidabili di quelle che ha mostrato contro 4... sta avendo delle brutte posizioni... non qui perché ha cambiato le donne alla fine sta abbastanza bene... C5 mossa ambiziosa... cerca di dimostrare che il pedone è debole... non si può catturare per le scoperte si perde la qualità... cavallo di C7... non subito... si mangia 6... molto pratico da Narodischi... appena può si mangia qualcosa... qui ha scosso la testa... ha scosso la testa... si si... ha scosso la testa per un attimo... guarda Bortnik... guarda Bortnik... eh... si... adesso un bello scacco in D4... mangia il pedone... porta tutti i pezzi ad attacco del re... io qui mi aspetterei anche forse H5 a un certo punto... o magari... entra subito... vediamo se riesce ad entrare... no... ripete un pochino le mosse... torre D3... bravo Narodischi... perché li cambia il cavallo... però attenzione... G2 è indifendibile... scacco... devia... guadagna materiale... guadagna anche l'alfiera... eh... si... 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 è una minaccia... adesso... matto... bella... sta qui di Bortnik... che accorcia le distanze... siamo 3 a 2 per Narodischi... si è ripreso Bortnik... ha capito che... deve giocare per ora... mi piaceva tanto questa... quest'ultima partita... bella... che ha giocato... molto molto bella... ok... si ricomincia... è simpatico Bortnik... no... fa queste facce un po'... si... è vero... Narodischi sembra quasi il suo ologramma... lui sta là... ma infatti prima mi faceva sorridere qualche commento in chat per Luigi... in cui si chiedevano... ma sono delle immagini fisse... insomma... delle foto... invece no... sono proprio i giocatori che... guardate che... ogni tanto respira... e raramente... se vi concentrate... sbatte le palpebre... quindi... assolutamente... insomma... sono in video... respirano... sbattono le palpebre... e... niente... sono molto molto concentrati... noi non ce ne accorgiamo... avevano anche... il mouse... sono... sono come noi... sono intorno a noi... vediamo... chi coglie... chi coglie... chi coglie questa citazione... sì... e... alfieri contrari per Luigi... oh oh... alfieri contrari... ma qui è il nero che si diverte... c'è sempre dieci secondi in più... incredibile... questa cosa... Bortnik... sembrava aver accorciato un pochino dal punto di vista... del ritardo sull'orologio... sai... la cosa impressionante per Luigi... è che... Narodischi è veramente molto molto rapido... molto molto forte... eppure poi... vederlo... giocare contro... Icaro... cioè... vedi che Icaro... veramente no... quella marcia in più... ancora maggiore... e fa impressione no... quanti livelli ci siano... cioè... già vedere Narodischi... insomma... è impressionante... è sì... qui sta giocando chiaramente per fargli cadere la bandierina... ma ha giocato il finale... adesso non voglio criticare nessuno... ma il finale così vantaggioso... l'ha giocato decisamente male... non... mi aspettavo... mi aspettavo molto di più... e qui... c'è questo spettacolo un po' stucchevole... devono arrivare 50 mosse... non ci arrivano... gliela fa cade patta... ah no... ci sono arrivati a quanto pare... quindi patta per la regola delle 50 mosse... e... non riuscito a fargli scadere il tempo... stavo per dire che è così veloce... perché perde meno tempo a battere le palpebre... Narodischi... e... ok... siamo 3,5 a 2,5... sempre un punto di vantaggio per Narodischi... e... vediamo ora con questa apertura... potrebbe essere che lo svantaggio diciamo... psicologico... l'ascendente iniziale che aveva preso Narodischi... un po' è sfumato con quest'ultima partita... perché... veramente... con queste ultime due... una bella vittoria prima... e poi si è difeso benissimo... sì... è vero... sta acquisendo fiducia... e poi è bello vedere anche quanto il loro punteggio... bullet su chess.com sia molto molto vicino... molto simile... sì... ok... sta male... sta malissimo qui... Narodischi... torre B3... ok... donne 7... B5... ok... due pedoni triplati... così non ci pensiamo più... donna B4... eh... sembra molto interessante infatti... donna B4... chissà perché... deve giocare veloce... deve giocare veloce... ah... forse non si poteva... donna B4 per torre D8... ah... forse non si poteva... sì... sì... ok... donna C8... re H7... archire per B7... inizia a riprendere qualche pedone... torre C4... mi cambia le donne Pierluigi... eh... E4... ok... però B4... si perderà... ok... è caduto intanto F7... eh... F7 è un pedone importante... perché difende il re... adesso la vedo difficile... la realizzazione del vantaggio... sì... e addirittura giocherà per vincere il bianco... perché c'ha tutto questo tempo in più... incredibile... eh... fortissimo... i pedoni EF... fortissimi... il pedone ARCA... fortissimo... non dovrebbe fare volto... e qui... abbandona... eh... la prende sul ridere Bortnik... peccato per lui... perché non ha sfruttato l'occasione giusta... una bella Alapin... che diventano... diventa una francese di cambio... eh... sì... Narolizky gioca un po' casual... le prime mosse... non gli interessa più di tanto... lui gioca veloce... sa che quello... adesso F4... oh... il trappolamento... basta... continuare... vediamo... i dischi... potrebbe passare in vantaggio... di P3... ora... in A7... C2... devi fare G6... e adesso vediamo che gli fa... perché A3... c'è ancora Db5... quindi cambia prima le torri... fa H4... per darsi una casa di fuga... si Db5... guarda anche il cavallo... per cui non si può giocare H5... arriva al fiere D3... eh sì... qua sembra... ma guardate... anche come ha bevuto l'acqua... cioè ha bevuto l'acqua... no? con eleganza... molto... insomma... fermo... tranquillo... senza... si... puro spirito... con molta calma... con calma e tranquillità... questo è il motto di Narodisky... ah... il motto del suo casato... del... ok... nel suo stemma nobiliare... si... guardate invece Bortnik... Bortnik c'è sto tazzone... adesso passa alle cose... chissà se vive negli Stati Uniti... anche Bortnik... forse sì... chissà... probabilmente sì... eh vedo un tazzone... particolare... eh... questo lo tiene per le grandi occasioni... ok... siamo a metà strada... con un più 3... sì... sì... più 3 per Narodisky... G3... qui a 4... alfiere G2... si cambiano i pedoni AB... e alfiere C6... e 5... si cambiano anche gli alfieri... cadere il pedone 5... torre D5... per recuperare... ha sbagliato Maria... ha sbagliato... il 5 secondo me... pensava di vincere un pezzo... non si è accorto che alfiere per G2... era con scacco... ok... torre B2... cavallo che si difende... ma torre che continua ad inseguirlo... torre D3 che va a difendere... per non perdere C4... se nel caso in cui... l'avesse spostato... ore F7... qui è dura... è dura... non difende così... attacca la torre... torre D2... il bianco prende la colonna A... sta giocando un po' passivo... Bortnik... non mi piace tanto... si è semplificata la posizione... c'è il pedone C... in più... e che ne pensi per Luigi... ebbè... ci sono possibilità di vittoria... perché... gli ha bloccato anche il re... adesso fa F5... giustamente... poi spingerà il pedone... ok... adesso... si sta vendicando Bortnik... che sta facendo tutte queste mossettine qua... si... ad un certo punto... potrebbe anche... forse... lasciare... quello F... vediamo... credo che sia vinta... perché adesso vado col re... esatto... ah... ok... va ancora a difendere... vediamo qual è la tua idea... ok... adesso gli ha spinto un C2... perché ha fatto C2... però... non si nasconde più il re... caspina... ma perché ha fatto... perché ha fatto C2... ok... forse deve andare indietro... ma... non riesce più a muovere la torre così... si... no... la pareggiata... perché ha fatto C2... si è ostinato... a non dare... colpo di un F... gliela vince... gliela vince per tempo... oh... è cambiato qualcosa... attenzione... Bortnik a meno tempo... adesso è un Arodis... che vince Bortnik... gliela vinta per tempo... però Bortnik ha fatto un'espressione del tipo... se quando stavo in Ucraina... facevo una cosa del genere... mi cacciavano a tutte le scuole di scacchi... sì... perché in effetti... no... giocare così per il tempo... poca tecnica... poca tecnica... diciamo... insomma... scacchistica di un certo tipo... insomma... l'avrebbero guardato un po' male... però... insomma... il bullet è così... Pierluigi... soprattutto spingere in C2... non è stata una grande idea... ah sì... diciamo... quando avete un pedone passato così... lasciatevi la casa davanti... no... per mettere il re... ok... vediamo... vediamo adesso che cosa succede... c'è la donna F6... cavallo C4... quindi Bortnik... accorcia un pochino le distanze... siamo comunque... a più due per Narodischi... alfiere per E4... ah... stavo per dire alfiere per E4... vince un pezzo... non vince un pezzo... battaglia... battaglia di cavalli... qua il nero mi piace... perché sta giocando... sull'ala più lontana... ha una maggioranza sulla di donna... un bel pedone passato... ok... vediamo... torre C4... Bortnik è in palla... è in palla... Bortnik le sta vedendo tutte... si... c'è ancora il vantaggio... scacco... F6... cavallo per F7... scacco... segue un po'... cavallo C5... torre scacco... veloce eh... fa questi scacchi fastidiosi... intanto i due pedoni in più però... eh... comunque i due pedoni... si... ci sono... vediamo se cade G2... no... la torre attacca il cavallo... eh no... sembra che il bianco... si stia organizzando... mette sempre il re e la torre... su casa di colore diverso... così... ah... è caduto il pedone H... nella velocità... insomma ha perso un pedone... però ha più tempo... Narodischi... fasi concitate... fasi concitate... attenzione... perché Bortnik ha un pedone di vantaggio... ma ha meno tempo eh... ha la metà del tempo di Narodischi... quel pedone... adesso non va da nessuna parte... Narodischi sta giocando per vincere... vuole vincere per il tempo... no... accidenti... ha perso proprio la partita... troppo forte... troppo forte... con poissimi secondi... sto mangiando le mani Bortnik... eh sì... eh sì... eh sì... Bortnik che rischia di scendere sotto quota 3.200... poverino... si è coperto la bocca... perché insomma... è arrabbiatissimo... adesso comincia ad essere uno svantaggio importante... tre punti... mancano 12 minuti... comincia ad essere un po' tanto... si... ok... c'è un'inchiudatura del pedone D... cavallo A5... C4... ok... cerca di murare un po' questa alfiere... non mi piace... non mi piace questa struttura... eh no... la casa D4... si ok... B2 è un pochino debole... ma... dovrei poterlo difendere senza troppe difficoltà... ok... si cambiano gli alfieri... una coppia di cavalli... donna C3... eh sì... la donna sta bene in C3... l'alfiere si rimette in C2... no... qui sta giocando molto molto bene... partita tecnica... chiaro vantaggio del bianco... e chiaramente anche vantaggio di tempo... gli fa B3... per scompaginare un po' la struttura... adesso avrà anche difficoltà a difenderlo questo pedone... si... si mangia 7... vediamo... donne 6... attenzione... qualche torre 3... torre 3 al momento giusto... per ora difeso... donna B4... forse ora... ecco... torre per E3... giusto... su donna per C4... torre 1... scacco... ah... ma non funziona... ah... perché c'è l'H2 giusto in tempo... f4... 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 ah... ma poi soprattutto... narodischi c'ha tanto... ah... recuperato... wow... bellissima questa vittoria... Pierluigi... questa è bella... questa è bella... donna F8... scacco seguita... donna per F8... è una... diciamo... autoflagellazione... da parte di Narodischi... che non si muove... ma quando si muove... cosa sta succedendo... ha perso la donna... no... è andato nel pallone... letteralmente... guardateli... è rimasto a bocca aperta... Maria... ma non puoi controllare la qualità dell'aria di Narodischi? purtroppo no... cos'è successo? cos'è successo? sei disunito... sei completamente disunito... no... io voglio vedere... il momento in cui ha perso la donna... scusate... ok... ha abbandonato velocemente... è crollato... è crollato... non la devo recuperare questa partita... no ragazzi... me la sono persa... vabbè... vediamo... vediamo... no... no... vediamola... adesso la recuperiamo... dobbiamo recuperarla dopo... dai... magari durante la pausa... no... che numero di partita è? Maria... incredibile... non ci posso credere... mamma mia... ok... quindi... scusate... adesso è Narodischi il bianco... e siamo praticamente... sei e mezzo... cinque e mezzo... quindi Bortnik sta recuperando... ci dicono che probabilmente era la partita numero undici... ok... grazie mille... dopo cercherò di recuperarla... quindi era Bortnik il bianco... eh... teniamo presente questo... ma questa è una cosa incredibile... sì... ah... c'è stato un errore incredibile Maria... incredibile... a mossa 6... grazie ragazzi... a mossa 6... ma... ah... l'hai rivisto? si... a mossa 6... cosa ha fatto Pierligi? ebbè... ha messo... c'è stato Alfiere B5 scacco... e seguita la poco precisa donna D7... ha coperto lo scacco con la donna... esatto... sarà stato un miss click incredibile... eh... ma di quelli proprio miss miss... mamma mia... ok... Pierligi... dopo la fine di questo match... devi assolutamente accendere la luce... altrimenti non ti si vede più... è incredibile com'è... è calato uno... bah... che strano... sì sì... una voce dalle tenebre... eppure c'era il spa... è incredibile... vabbè... vediamo... ok... ok... vediamo cosa sta succedendo ora... Bortonic col bianco... adesso soltanto a un punto... in seguito ad un punto... Narodischi... e... insomma... queste ultime partite potrebbero avergli fatto bene... mentre Narodischi potrebbe aver perso un po' di fiducia... no... il fatto che dopo... commesso un errore... ma attenzione perché... ora... ok... forse c'è qualcosa... che si poteva sfruttare... chissà... la barra era precipitata... precipita ancora... alfiere per H6 no? sì... si minaccia matto... ma arriva F5... wow... che difende con la donna e il matto... intanto il nero... ha preso la torre... e Bortonic... scuote la testa... adesso su cavallo per F6... attacco due volte e quattro... alfiere H7... ma mangerà... di cavallo... perché sul re c'è la donna G6... e abbandona... ok... e si ricomincia... è stato... è stato bravo Narodischi eh... perché dopo quei due errori di fila... eh... sì... poteva perdere facilmente la bussola... invece... insomma... la sua calma... lo ha riportato... sulla retta via... per Luigi... secondo me è una calma... è una calma apparente però... eh... torna in settima... mamma mia... bella posizione il bianco... ha qui... donna F6... F4 forse... sì... F4 la gioco... che su E per F... faccio donna per 8... scacco... ah... mamma mia... lo sta completamente schiacciando eh... bruttissima posizione... donna H6... H3... F6... vediamo... donna H5... adesso... ha giocato da parte... eh sì... adesso minaccia Torre D7 di nuovo... bellissima... perché sulla presa adesso prendiamo di pedone con Forchetta... quindi... alla fine si cambia... una coppia di torri... è riuscito un po' a rintuzzare... eh... io forse cambierei le donne qua... cambio le donne... poi provo a vincere il finale... ecco qua... infatti vuole cambiare le donne... C5... bel colpo anche questo... bella... 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 torre D7... torre D7... scacco... bellissima torre D7... wow... la vinta sulla presa... prima presa di pedone... non si poteva catturare l'alfiere per la promozione... e comunque si minacciava D8... ok... abbandona... adesso è dura per Bortnik... perché ha soltanto... e ha meno 3... esatto... quasi 6 minuti per recuperare... ok... ancora ce la può fare... ma deve cominciare a vincere... qui ha già perso un pedone... ah li ha... non so... non so quanto l'ha sacrificato... c'ha gioco chiaramente... ma... non tantissimo... ok... A5... per frenare un attimo il pedone B... prende un po' di spazio... cavallo D4... entra col cavallo D3... giusto... aha... alfiere D3... cavallo F5... presa presa... si cambiano gli alfieri camposcuri... adesso... vediamo... se riesce... si riesce giusto in tempo... a cambiare quell'alfiere... che era un po' cattivo per Luigi... si... l'impressione è che il nero... abbia... il bianco abbia compenso sufficiente... ma non... non più di questo... donne 7... per esempio... ripetendo le mosse... ok... Re F8... vuole fare... torre G8... ok... si è attivato bene... bisogna riconoscere che... torre G3... si è attivato bene... torre per H3... però prima difendo la torre... e qui sta meglio il nero... e adesso non ci sono neanche colonne da sfruttare... sta meglio il nero... sta entrando con i pezzi pesanti... si toglie dagli scacchi preventivamente... e su torre per B2... buon matto... ah... gli ha dato proprio matto... ha mollato... più 4... squadra la testa a Bortnik... Bortnik che ha già giocato un match poco fa... eh... quindi... insomma... diciamo... il fatto di aver perso... no... nei primi match... fa sì che... ha mollato... insomma... chi arriva dopo... è un po' più avvantaggiato... perché appunto... in questo caso... Nero Dischi... oggi... ha dovuto giocare soltanto un match... mentre Bortnik ne ha dovuto giocare due... ok... Bortnik ha mollato completamente la presa... adesso dovrebbe succedere un miracolo sportivo... sì... non ci crediamo... non ci crediamo... dovrebbe fare... dovrebbe fare tre partite... vincerle tutte e tre... mettersi... a un minuto... ma... non so... la vedo... veramente... molto... sì... perché se consideriamo... un po' di minuti a partita... non ce la dovrebbe fare... va bene... vediamo... qui stanno giocando la posizione più chiusa del mondo... non ci sono colonne... non sono stati cambiati pedoni... non sono stati cambiati pezzi... potrebbero andare avanti all'infinito... sì... chiaramente Nero Dischi è contento... perché... sta vincendo... quindi dice... vabbè... non ho nessuna fretta... piano piano... adesso secondo me col bianco sposta il re... stavo per dire... si fa una bella marcia del re... ahà... ecco qua... eh sì... sta giusto attento a non fare pre-move azzardati... vabbè... questa è una delle partite più strane che abbia mai visto... con tutte queste ripetizioni... Nero Dischi ha tutto l'interesse di far passare il tempo... è chiaro... sembra come quando si gioca a quadriglia... sì... adesso si fa il giro dall'altra parte... interessante... riesce ad aprire Bortnik... ma... guardate che ha creato anche delle possibilità di vittoria Bortnik... ah... ok... attenzione... si è rilassato un po' troppo Nero Dischi... eh... vediamo... perché se dovesse Bortnik vincere ora... ok... materialmente sembra ancora difficile... però... insomma... un tentativo... ah... i vedoni sono troppo forti... vediamo... la differenza è che... stanno giocando con poco tempo... e c'ha moltissimo tempo in più... è a più tempo Nero Dischi non ce la fa... ma è troppo... è troppo veloce... non ce la fa... è troppo veloce... non c'è anche di posizione... troppo veloce... è finita... è finita... Bortnik si dispera... e vabbè... ormai il match è andato... non c'è più chance di recuperare... in questa variante... in questa variante Maria... c'è stata qui a Donna D7... ah... era qui che aveva perso... al posto di Alfiere D7... ha giocato la... originale Donna D7 diciamo... pazzesca... veramente... ok... torre 1... donna F5... attacca il pedone D3... è il nero... più volte... sì... il nero sta già bene... non è riuscito a sviluppare... e devo dire che non è facile... riuscire a recuperare... lo spirito combattivo... quando tutto va male... purtroppo... voglio sapere dalla chat... che fino ha fatto per Luigi... non lo vedo più... c'è stato un commento... mi ha fatto ridere moltissimo... e... sì... in bleh... mi ha fatto ridere... un commento di... eh... eh... non lo trovo più... che mi diceva che... di giorno... sono... sono io... e di sera... divento Batman... adesso... chiaramente... tornerò... G2... cavallo E7... scacco... cavallo E5... difende con la donna da lontano... eh... eh sì... e non si poteva fare al file per le 5... perché F8 è in presa... esatto... vabbè... comunque... Naroditsky è imbarazzante... c'è proprio una velocità... mamma mia... velocissima... caspita... mmm... è crudele questo gioco... mi dispiace che perderà anche questa per il tempo... insomma... potrebbe perdere anche questa... eh... donna G3... vediamo... donna per G3... ce la fa... ce la fa... non ce la fa... non ce la fa... non ce la può fare... non ce la fa... eh sì... si arrabbia un pochino... e... vabbè... ritorna qui... ok... è Naroditsky... Naroditsky gioca il sistema Giobbava... qui si rientra praticamente in una Francene... neanche... perché il bianco non ha spinto N4... ora si rientra in una specie di francese... e... al filo di colore contrario... il bianco ha concrete... qualche volta... H4 intanto... eh sì... ha concrete possibilità d'attacco il bianco... bravo... usa il pedone H... come ariete... ah... perché conta di cattolare 5... esattamente... però qui ti posso... guarda che bella mossa... guarda che bella mossa... bellissima... perché ora ti faccio torre per H6... ma che bella... meravigliosa... bella... adesso... potrebbe seguire anche... una mossa di torre... per esempio... torre F6... ah... attenzione... ma arriva E6... bella... perché scuote la testa... perché si minaccia al fiere E5... cosa minaccia? cosa sta minacciando? vediamo... al fiere E5 sì... e su F6... probabilmente... farà al fiere per F6... giusto? ai 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 ai... non si riesce a difendere G7... perché... alla prossima mossa... segue torre G6... il tempo è scaduto... la partita è persa... Narodizki ha vinto... Narodizki... faccio un sorriso... non ce lo fa... arrivano tutti... matto... complimenti... a Narodizki... che vince in maniera convincente... questo match... vince per 13 a 6... quindi l'ha più che doppiato... e... complimenti comunque anche a Bortnik... perché insomma... al di là del risultato... ha giocato un grandissimo evento... ok per Luigi... quindi... ritorniamo... qui ancora... ma insomma... facendo questo ingrandimento su di te... è ancora più divertente... vederti così al buio... eh... sì... sì... sono avvolto dalle tenebre... ok... allora Pierriggi... prossimo acquisto... una bella... insomma... una di quelle lampade... sicuramente... non mancano... non... non... non mancherò... ok... allora... quindi... praticamente... andiamo a vedere un attimo il bracket... vediamo cosa è successo... allora... Narodizki... ha battuto Bortnik... e... tra poco... ci sarà... Carson... che invece giocherà contro Tang... che... ancora prima... aveva battuto... Martinez... Alcazzara... Pierriggi... com'è che si chiama... no... 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 Martinez... Alcantara... bravissimo... e quindi... sì... Carson... tra poco giocherà con Tang... e poi più tardi... ci sarà la finale vincitori... tra Nakamura... e Firuza... quindi... mi raccomando... come vedete invece... nella semifinale... dei ripescati... avanzato... Daniel Narodizki... che attenderà... il vincitore... del match... tra... Carson... e Tang... che invece... insomma... questa finale... questa scusami... semifinale... dei ripescati... la dovremmo vedere... proprio domani... fatemi dare soltanto un'occhiatina... così... vi dico esattamente... allora... la... domani ci sarà la semifinale... ripescati... poi... pensate... pensate un po'... domani... che è l'ultima giornata... ci sarà la semifinale ripescati... il vincitore di questa semifinale... dovrà giocare... la finale ripescati... e se dovesse vincere... anche la finale ripescati... dovrà giocarsi... pure la gran finale... ovvero... dovrà giocare contro il vincitore... del girone dei ripescati... che... insomma... fino a quel momento... si è riposato... esatto... e la gran finale... sarà... sarà difficile da vincere... in ogni caso... perché poi no... bisognerà battere... insomma... un giocatore... e credo sempre... per un paio di match... immagino... valga sempre lo stesso principio... credo sì... quindi... vedremo... ok... noi tra poco... torneremo... con il match... tra Karsen e Tang... partirà la prossima bet... per Luigi... che dici... punti su Karsen... ci dovrebbe essere un colpo di scena clamoroso... no... punti su Karsen... finora... guarda... ne ho indovinate... due su tre... non male... ok... punto su Karsen... ok... quindi per Luigi... punti su Karsen... e ci siamo... sì... qualcuno ci scrive su YouTube... com'è possibile che il mitico... double P... è in versione black... ma adesso ragazzi... questa pausa... rinascerà... come il sole... ok... allora ci vediamo tra pochissimo... restate con noi... e come sempre... vi ricordo di lasciare un like... alla nostra diretta YouTube... se non l'avete già fatto... siamo a 130 like per Luigi... e ora per Luigi... a quanto puntiamo? a 200... ai 200 like... mi raccomando... state con noi... a tra poco... ti interessa diventare uno streamer di scacchi... come i tuoi creator preferiti... magari come i Karu... Gotham Chess... o Chess Society? come on... look at this... mamma mia... il community streamer program di chess.com... cresce ogni giorno... che tu abbia appena iniziato a streamare... quando il tuo pubblico sia già ampio... ora... puoi collegare il tuo account... a chess.com... e promuovere il tuo stream... sulla più grande piattaforma... di scacchi al mondo... basta collegare il tuo account... alla pagina... chess.com... slash... settings... slash... connected accounts... seleziona la categoria... scacchi su Twitch... e inizia la diretta... su chess.com... non avrai più pubblicità... comparirai nella nostra lista... di streamer in diretta... il tuo profilo chess.com... mostrerai il tuo streaming... su Twitch... e la tua diretta... sarà collegata... alle tue partite... sul nostro server di gioco... digita... punto esclamativo... community streamer in chat... e fai crescere subito... le tue dirette... ricetta... ci ne vediamo... ne vediamo... si, il vanno... il vanno... esclamativo... non... ne vediamo... ci sono... le tue Richel... è... si... si, si... le tue... non... ci sono... e... ti... si, le tue... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. da quanto tempo. a tutti. 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 Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. povero. povero Andrew. a tutti. a tutti. si aprirebbe la colonna. a tutti. scacco. B7. a tutti. Alfiere H5 scacco, vediamo, 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 mi sembra la mossa più naturale, no, fa donna C1, donna per E5 e c'è una posizione con squilibrio di materiale, ha sacrificato la donna, Kalsen non può arroccare, vi ricordo che l'alfiere in A3 impedisce l'arrocco, altrimenti l'arrocco sarebbe un'ottima mossa, però Kalsen gioca bene con i cavalli, adesso farà Re C8, secondo me così fa l'arrocco lungo. Che bravo Kalsen, è riuscito a tirarsi fuori l'impaccio da una situazione drammatica, qui sta scuotendo ancora la testa perché ha perso un altro pedone e forse non ce la fa, qui forse non ce la fa perché gli manca un po' di stabilità con i pezzi e sull'ala di Re c'è questo pedone passato che è molto forte, credo che non ce la faccia, non ce la fa, no, no, no. Chissà se gioca diciamo in maniera sportiva e quindi abbandona oppure se vuole far passare un pochino di tempo, anche se in realtà ha così poco tempo Tang che forse potrebbe anche rubargli in qualche modo, no, perché qui perde il cavallo in F7. Ok, bravo, bravo, comunque due vittorie contro il campione del mondo, non è male, di nuovo un'apertura un po' fantasiosa, il bianco spinge in E5, il nero spinge in D4, adesso il bianco farà D3 per sviluppare l'alfiere, e F1 e probabilmente, ecco qui, qui prova a cambiare le donne per accerchiare il pedone D4, che è un'idea molto buona. Ah, sacrificio posizionale di pedone per avere un bel gioco sulle case scure, non se lo mangia, non si fida, Tang, adesso se lo mangerà, credo, e sì, Carlsen ha sacrificato il pedone e adesso sta attaccando E6. Donna A4, pensava di vincere un pezzo, gli è sfuggita B5, visibilmente, però è molto brutta la posizione del nero da un punto di vista strategico, e ritorna in gioco l'alfiere B7. Il bianco che prova anche a raddoppiarsi, ha sfruttato l'inchiudatura del pedone E6. Eh sì, cose semplici, torre per C6, adesso c'è stato un cambio, chiaramente una patta. Si ha ripreso la qualità. Una patta va anche bene a Carlsen, che però ha più tempo. Carlsen è velocissimo, francamente Naroditsky ci sembrava molto veloce, Carlsen, come dicevi tu, una questione di velocità, sono delle marce, no? Carlsen ha una marcia in più, e Nakamura, mi dicevi, è proprio... Cioè, tra poco lo seguiremo, no? Perché ricordo, ancora una volta, che subito dopo questo match ci sarà Nakamura-Firuja, che sarà a un livello, veramente, secondo me, imbarazzante, cioè per come sarà forte. Anche Firuja è molto veloce, no? Sì, e sarà bello, no? Perché veramente mi è capitato spesso di commentare Naroditsky, e già lui mi sembra irraggiungibile. E poi vedere altri che sono ancora, no, una spanna sopra, fa veramente impressione per Luigi. Ma da dove venite? Da quale pianeta? E soprattutto, che mouse avete? Sì, sì, era divertente in questi giorni. C'era uno dei giocatori che, ok, aveva forse, no, insomma, magari aveva qualche secondo sempre meno dell'avversario, che ad un certo punto, no, vedevi che aveva preso, forse Hansen, aveva preso il mouse, che aveva un mouse con il filo, no? Quasi si disperava per dire questo mouse. Sì, ci vogliono un po' di, insomma, tanti ingredienti, no, per giocare bullet. Sia avere comunque dei buoni strumenti, quali il mouse, comunque anche una buona connessione, tutto quanto. E poi, vabbè, veramente una rapidità di pensiero allucinante. E quindi combinare il tutto veramente in maniera egregia, che non è facile. Comunque, Hansen, devo dire la verità, fra tutti quelli che ho visto, è quello che davvero gioca a scacchi. Cioè, vedi anche il livello, no, che è alto in queste bullet, vero Pietro? Sì, è ovviamente una bullet, fa tanti errori, perde pezzi, eccetera. Però è costruita, è proprio una partita che, no? Che si può raccontare. Guarda come sta intrappolando la torre, cavallo C2. Oh, ICDS. Cavallo C2 è di una cattiveria assoluta. Aha. Poi qui non so cos'è successo, cose strane. Adesso ha questi due pedoni fortissimi, fortissimi, Tang. Sì. Eh, e chi li ferma quelli? Li ferma il re e va ad attaccare con la torre. Giusto? Eh no, troppo... Troppo forte. Troppo forte. Troppo forte. Mi lascia la torre giustamente che tanto va donna. Sorride, 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 dice aia. Sette e mezzo, due e mezzo. Ah, una bella francese, vediamo. Scacco. Adesso non donna a D7 come ha fatto quella, come ha fatto Naroditsky. Il bianco è riuscito ad arroccarsi, giustamente mette il re in B1, torna indietro anche con la donna, spinge in D5. Vedete, la cosa bella di Carlsen è che ha le idee sempre molto chiare sulle trasformazioni delle strutture. Sì, adesso è una cosa... Ad attaccare. Però qui ha perso un pezzo, ha sacrificato una qualità a Tang, ok, scusatemi. Tang sta attaccando molto violentamente. Oh, è caduto l'alfiere in F5 con scacco. Gliel'ho chiamata, eh, un pochino. Ha perso un pezzo. Wow, Pierluigi, ne vogliamo altre di queste perle. Sì, 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 però continua a giocare Carlsen come se nulla fosse. Qui ha meno tempo, per la prima volta ha meno tempo, potrebbe essere un brutto segno per lui. Scusate, la bet non è partita. Allora, prima ha vinto Naroditsky, quindi completiamo. Allora, questa bet come la vogliamo fare? Facciamola un po' più complicata. Come finirà il secondo set? Carlsen adotterà Tang? L'adozione a che punto arriva? Esatto, dovrebbe essere un 10 a 0 consecutivo, oppure facciamo così, Pierluigi, Carlsen raggiungerà che il punteggio? Beh, non lo so perché ha vinto di nuovo Tang, sette e mezzo a tre e mezzo, è abbastanza onorevole comunque. Non lo facciamo, Carlsen raggiungerà i 14 punti? Che dici? Secondo me no. Ok, vediamo. Allora sì o no? Anche perché qui sta chiaramente peggio già. Quanto manca? Fammi vedere. Ok, insomma, potrebbe succedere. Ok, faccio 13, faccio più difficile, facciamo nel mezzo. Allora, finora i match come sono stati vinti? Quanto? Fammi vedere. Non sto capendo molto di quello che succede. Allora, Narodisca ha vinto 13 a 6. Ok, quindi è possibile. 9 a 7, 17, quindi ok. A posto Pierluigi. Facciamo così. Diciamo che si stanno tirando i pezzi addosso selvaggiamente. Il bianco addirittura non ha avuto il tempo di sviluppare il cavallo G1. Lo fa adesso. Si andrà a mangiare, credo, C4. E a quel punto la partita sarà molto, molto difficile per il nero. No, questa è vinta. Questa è vinta sicuramente per Tang. Che quindi si avvicina molto, eh. Maria, qui siamo 7,5 a 4,5. Ok, quindi vabbè. Comunque vediamo cosa succede in questa bet. Vediamo. Si sta un pochino, si sta un pochino imbrogliando Tang. Forse un po' di emozione nelle posizioni tecniche. Però qui ha vinto, qui ha vinto. Proprio vinto. Abbandona, abbandona Carlsen. Ok, intanto è partito. È partita da sera bet del sondaggio. Vediamo. Io, insomma. Forse esagerato, però. Vediamo se Carlsen riuscirà a raggiungere 14 punti. Vediamo un pochino. Adesso gioca in maniera più solida. Eh, perché c'è un piccolo ritorno, eh, da parte di Tang. Poi ci vuole un attimo qui. Mhm. Ha fatto degli errori un po' gravi Carlsen, eh. Degli errori proprio di pezzi in presa. Non mi aspettavo che ne facesse qualcuno, sì. Ma ne ha fatti forse un po' più di quanti sarebbe stato lecito. Aspettarsi. Aspettarsi. Qui ci sono dei temi tattici sull'ottava traversa, no? Cavallo per A5. Adesso, ok, dopo il cambio in C2, minaccerei matto. Ok, sullo scacco c'è la copertura di torre, per cui non è matto. Però adesso c'è il problema. Difende sia, vedete, sia E2 che A2. Riporterà in gioco il cavallo, molto probabilmente. Oh, torre in presa! Torre G1, mannaggia. Ebbè, perché poi, giocando tante partite, possono succedere anche queste cose. Incredibile torre G1. Peccato. Ok, speriamo non si demoralizzi. Adesso Tang, perché a volte, dopo errori di questo tipo, può capitare. Comunque non c'è tempo per pensarci, perché la mente deve andare subito alla partita successiva. e Tang, ricordiamo che anche lui, come è successo prima per Bortnik, ha già giocato un match, ha già giocato tante partite, però si ritrova a giocare contro Kars. Sì, tra l'altro in questa partita sta rimanendo indietro di sviluppo e qui finisce proprio malissimo. Male, 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 male. Brutta idea. Se posso darvi un consiglio, quando si gioca con poco tempo, evitate di giocare cose immediatamente... Kars e l'I c'è ancora. Taglienti con arretratezza di sviluppo, perché proprio si rischia di fare... Ancora il gambetto di re. Aha, ritorna. Sì, Kars and forse vuole divertirsi un pochino. Adesso entra col cavallo in E3, Tang. Come fa ad arroccare Kars and? Domanda. Farà un arrocco artificiale? Eh, però sul re F2 posso sempre fare... Fa G3, vedete come risolve il problema all'origine. Toglie proprio i difensori del... Wow, una torre in E8. Copre con il cavallo. Che bella cavallo per F4, che bella. Bellissimo per il doppio in G2, che bello. Esatto, esatto. Ma si difende, Kars and si difende contro il G1. Bellissima partita, questa partita romantica. Matto si minaccia. Minaccia matto, si difende. Sacrificio di qualità, donna per E3. Però anche... Ha perso tantissimo materiale. Alla fine soltanto una qualità ha perso, è incredibile come è riuscito. Però ha perso il pedone C5. Ora potrebbe abbandonare, forse. Sì, qui... Continua a ascoltare una musica nella sua testa. Esagerato. Ok, forse prima di abbandonare vuol far passare un po' di tempo. Vuol far finire la canzone? No, non fa neanche finire la canzone. Comunque, sai che mi sorprende il fatto che abbia le cuffie un pochino? Ah, sì, non l'avevamo visto... Sì. Spesso con... Ok, forse... Sta cambiando canzone, diciamoci la verità. Ha deciso di non essere più campione del mondo. Si sta dando un po' alle frivolezze. Vogliamo metterla così. Allora, vediamo. Chissà si ascolta la musica di Chess Bra a questo punto, visto che si trova a casa loro. Loro quando fanno il loro diretto, Pierluigi, ascoltano sempre una musica molto, insomma, forte, no? Non so, io non è che me ne intenda tantissimo, però con le musica un po' tecniche... Elettronica, no? Esatto. Sì, sì, sì. Ottima idea per giocare a scacchi. Pierluigi, ti ci vedrei. Tu che ti immagino più una musica classica, no? La musica è tutta bella, per carità, eh? Allora, però insomma, per come lo vedo carico, Carlsen, mi sembra un po' più quel genere. Vediamo. Intanto, tanghi in vantaggio, eh? Occhio. Ancora una volta una qualità di vantaggio. Cavallo F4. Carlsen si sta divertendo con... Ha lasciato un cavallo in presa. E adesso si sta chiedendo, bah, che cosa ho fatto? Abbandono o non abbandono o non abbandono? Invece dalla nostra chat ci dicono DJ Piscopo a fare le live. Faremo anche questo, io oramai. Ops, è caduto un cavallo. Ok, Carlsen, gioca ancora un po' giusto per far passare il tempo. Non abbandona. Eh, significa che non mi piace questa cosa, francamente. Qua lo fanno tutti i pierluigi. Fa parte della strategia del gioco. Eh, vabbè, ma voglio dire, lo vincerà questo match, no? Non sono questi pochi secondi. Sì. Ok. Bah. Bene. Allora, si ricomincia. Nove e mezzo, sei e mezzo. Vediamo per chi ha puntato sulla bet. Se Carlsen arriverà a 14. Non sembra facile al momento, però, insomma, vediamo. Ci Carlsen sacrifica un pezzo nelle prime mosse. Attenzione, attenzione. Si è arrabbiato, eh? Questa è proprio la classica cosa di chi dice io adesso. Mamma mia, questi pedoni cattivissimi. Wow, questo cavallo è praticamente andato. Vediamo. È andato, è andato. Dove è andato non si sa, ma è andato. Però, in compenso, il nero qui ha recuperato. Eh, occhio alfiere G5, com'è? No, no. Eh sì, eh. Come è? Il fiere G5 sembra letale, perché su donne 6. Cavallo per D6. Ah, prende D6 e poi riportare alfiere in E3. Ok. Vuole giocare per un vantaggio posizionale. Alfiere E2. Sta giocando un po' stranamente Carlsen, eh. Devo dire, questa fase mi sembra molto strana. Ok, si attacca in C2, eh. Non è facile difendere. Ha perso, ha perso. E qui crolla. Su C3, donna A2. Deve dare la donna. Deve dare la donna. Torre pezzo per la donna A2 che straordinaria con un matto, credo quasi imparabile, deve dare la casa di due re, di andare via con la donna, però se va via si becca matto con Torre per C2. Oh oh! Ahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai. Stiamo assistendo. Chi applaude il suo avversario. No, sta applaudendo la musica. Eh Tanno però lo sta recuperando Piano piano Adesso sbagliato lo ha Betto Avrei dovuto fare chi vince il match Si è fatto dare 2 Adesso sta a più 2 Adesso bisogna ricominciare a giocare bene Maria Vediamo ragazzi Che cosa ci dite il campione del mondo Sta rischiando Secondo me l'ha un po' sottovalutato Perché con questo ragazzo gioca bene Non sarà il campione del mondo Ma gioca bene Vediamo E di che bravo A B5 Si è arrabbiato un po' Carlsen Adesso su alfiere per B5 Alfiere 6 tempo Donna muove E su donna per B2 Semplicemente arrocco corto Alfiere D5 bravo Adesso si mangia G2 Minaccia cose un pochino strane G6 Ma che cosa sta succedendo Che cosa sta succedendo Questo è ancora un pezzo Mouse slip Oggi sei Miss click ha fatto Miss click Incredibile Adesso minaccia scacco in H4 Ma non è neanche così pericoloso Occhio che Tang si sta facendo riprendere Torre B1 Guardate è successa la stessa cosa di prima Cioè prima non si poteva difendere C2 Adesso non si può difendere B2 Guardate qua anche che attacchi ci sono Tutto inchiodato E su B1 Anche il B3 Anche il B3 mamma mia No questa l'ha ricoverata molto molto bene E poi quando si arrabbia si arrabbia Vuoi farlo arrabbiare Scacco 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 Mamma mia E qua è finita Ride 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 Madonna Come vede le geometrie Carlsen In un attimo Io ci avrei messo 40 minuti a trovare No? Sì Mamma mia E quindi siamo 10 e mezzo 7 e mezzo Più 3 per Carlsen Vediamo Questa volta una partita spagnola Qualcosa di più noto per Luigi Sì Però ha giocato G6 Tang sulla spagnola E Carlsen ha giocato questa specie di variante del cambio In cui non sembra che abbia ottenuto granché Anzi la struttura del nero mi piace Tutto sommato Sì Vediamo come Carlsen saprà interpretare questa nuova posizione Torre G5 Che cosa vuole fare? Ok difende la sua torre Eh attenzione perché torre per D4 è una minaccia Sacrifica la qualità E poi Adesso se si mangia F4 ci sarebbe controgioco sulla colonna F Comunque se lo vuole mangiare E poi che cosa vuole fare? Qui sta giocando soltanto per sopravvivere Carlsen Sì Attenzione Attenzione perché Tann Oh occhio al cavallo Sì che c'era un doppio Comunque scacco Eh questi pedoni però Sì non ha gestito bene la fase critica Adesso i pedoni avanzano Diciamo che Carlsen si è un po' incattivito Caro ragazzo Adesso Ti faccio vedere io Eh sì Adesso Cadio H7 con scacco immagino E se adesso cavallo Gli dà proprio matto Torre 8 Torre 7 Matto Bellissimo Ha esultato come se avesse vinto un altro campionato Ricordiamo il suo tuffo in piscina Quando ha vinto il primo campionato del mondo Pietro Luigi Eh sì mi ricordo Mi ricordo Ma sa Cioè è proprio contento Cioè è un bambino Carlsen Un bambinone Non ha Ha proprio piacere di giocare Insomma anche vincere No Ora lui che ha vinto tutto No può sembrare Magari Insomma Una piccolezza Tutto ciò Invece per lui È motivo di gioia Come vedete È proprio bello Questo piacere Che adesso Cioè comunque Ha sempre avuto Ma adesso Si è un po' liberato Di alcuni pesi Ok Si raddoppia lungo la colonna C Ah ah Dai pedoni centrali Attenzione al matto in G7 Che para con G6 Sì ma ormai diciamo È pura accademia Guardate Carson Un po' disgustato Sì H4 Sì bravo È vantaggio molto grande in finale Gli dà uno scacchetto Non ho capito bene Perché gli ha dato questo scacchetto C4 Cade a due Vediamo Vediamo Carson Come si gioca a questo finale Deve cercare di scompaginare Questi pedoni F4 Adesso entra il re Insomma Pierluigi Questa Carson la vince Da re dei finali Incredibile La vince Ragazzi La vince È lui Il re dei finali Incredibile Che maestria Eh sì C'è ben poco da fare Per Tang Questa potrebbe essere L'ultima partita Vediamo se finisce Prima dei 6 secondi Sì Si gioca ancora Comunque Carson Ha un punteggio Sì Vicino a quello Per pochissimo Eppure volevo fare 13 e mezzo Perché ero indecisa Tra 13 e 14 Ma l'hanno annullata Alla fine Voleva giocare Carson Voleva giocare Si stava divertendo Va bene Ok Quindi Complimenti a Carson Che vince Quartier di finale Dei ripescati E domani Se la vedrà Con Naroditsky Giusto Per la semifinale Giusto Dei ripescati Ecco Giusto Ma io direi Complimenti a Tang Che ha fatto Sette punti e mezzo Non ha sfigurato affatto Assolutamente no Insomma Immagino sia Un piacere Un onore Giocare contro Il pluricampione Del mondo Il pluri Esatto Pluristellato Ma adesso Maria Adesso Se non sbagliare Il pezzo forte Della serata Sta per arrivare ora Il match Che tutti quanti Questo Il bullet Fa pensare un po' Al far west No Quali erano i pistoleri Più veloci Magari il pubblico Da casa Ci può aiutare Quali erano i pistoleri Più famosi Nel far west Scriveteci Scriveteci Pago subito Le bet Dai Mi aiutiamo Nick Manofredda No Questi nomi Non sappiamo Allora Carson Raggiungerai 14 punti No Vediamo quanti di loro Avevano predetto No 95% Bene Quindi no Era difficile Arrivare a 14 Comunque Sì Ok Billy the kid Giustamente Billy the kid Molto famoso Manolesta Ma manolesta Mi sa più Delle metropolitane Affollate Nelle grandi città Qua si stanno Andando da fare Con i commenti Naca occhi di falco Naca occhi di falco Dai vediamo se ci Perché voi siete bravi Ho fiducia in voi Riuscirete a trovare Lo chiamavano Trinità Lo chiamavano Trinità Vabbè Quello è un film No Il famoso Trinità Ok Stanno divertendo Devo dire Lucky Lucky Luke E io intanto Mi invito a raggiungere I 200 like Su YouTube Mi raccomando Beh sì È la giornata Degli scacchi Oggi Per cui Ovvero Non vi costa nulla Fateci felici Eccolo qua E quindi Non ve ne andate Perché Come vi dicevo Questa era la giornata Più lunga Delle 5 Termineremo Insomma Oltre le 22 Questa sera Perché tra poco Ci sarà Il match Tra Nakamura E Firuza Match che sarà Non su 30 minuti Ma su 45 minuti Pierluigi Quindi Insomma Ci sarà ancora Un quarto d'ora In più Per godere Di tante Tante partite Certo Certo Ok Pierluigi A questo punto Come ti pronunci Sul prossimo match Eh Buona domanda Ma secondo me Guarda Secondo me Vince Firuza Guarda Stavo Sono Voglio giocare Proprio Voglio rischiare Perché Ha battuto Ha battuto Carlsen E magari Secondo me È sull'onda giusta Siete d'accordo Che ne pensate Di questa affermazione Di Pierluigi Gli diamo fiducia Io tra poco Faccio partire La bet E quindi Vi ricordo Ancora Mi raccomando Arriviamo subito 200 like Su youtube Punto esclamativo Cess day Qui in chat Su twitch Vi copio Vi copio lo stesso Anche però Su youtube Oggi La giornata Internazionale Degli scacchi 99 anni fa Nasceva la FIDE La federazione Internazionale Degli scacchi Quindi l'anno prossimo Sarà il centenario Per Luigi E insomma Ci sono tanti modi Per festeggiare Cess.com Vi fa diverse proposte Una tra l'altro Che regala a tutti Un mese gratuito Per usufruire Di tutti gli strumenti Su Cess.com In maniera illimitata Anche per chi Ha già usufruito Della settimana di prova Quindi veramente Per tutti C'è questo mese Ovviamente Seguite le indicazioni Per avere il mese di prova Ma ci sono anche Altre proposte Insomma Che vi possono Interessare Quindi Punto esclamativo Cess.day E Lo condivido Anche per gli amici Di youtube Ok Ecco qua E poi vi ricordo Ancora di seguirci Sui vari social Punto esclamativo Social Noi siamo Come sapete Su tiktok Youtube Instagram Facebook Twitter Oltre che Su twitch Anche E quindi Veramente Insomma Potete seguirci Ovunque Condivido Gli stessi link Anche Per gli amici Di youtube Così che Anche voi Insomma Potete andare A seguirci Vi dicevo Che mancavano Pochi Pochi follower Su instagram Per arrotondare A 5.000 Follower Quindi potremo Festeggiare La giornata Degli scacchi Proprio Insomma In questo modo Ok Ora Mi condivido Allora Ok Ce l'abbiamo fatta Maria Raggiungere Il numero Di follower Ora controllo Vediamo Vediamo se ci hanno Accontentato Controllo in diretta Per Luigi Insieme a te Allora Vediamo 4.987 Per Luigi Ne mancano tre Quasi 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 Tre Ok Tre volontari Dai Dai Ma come non ci seguite Su instagram Ancora Dove mettiamo Tutte le notizie Vari reel Poi vi diamo Vari indicazioni Mi raccomando Ok Per Luigi Allora noi Facciamo una breve pausa Che tra poco Arrivano Firuza E Nakamura Vedremo Chi vincerà Questo girone Dei vincitori Chi invece scenderà Appunto Nel girone Dei ripescati Girone Dei ripescati Dove Chi perderà Domani Giocherà Contro il vincitore Contro il vincitore Del match Tra Narodischi E Karsen Quindi insomma Non sarà una passeggiata Sappiamo che Icaro Ha già battuto Narodischi Però potrebbe esserci Anche Karsen Quindi insomma Domani La finale Dei ripescati Sarà comunque Una finale Da non perdere Insieme a quella Che poi sarà La gran finale Dove conosceremo Il nome del vincitore Del bullet Chess Championship 2023 Quindi Luigi Ci vediamo Tra pochissimo Mi raccomando Restate con noi A tra poco Ora vi faccio vedere Anche un bel video Sulle emoji Che potete utilizzare Su chess.com Sulla scacchiera Dove vi potete Proprio divertire Tra pochissimo Sapevi che puoi aggiungere emoji Alle tuoi scacchieri Di analisi Nelle partite online Basta cliccare Sull'icona Della tavolozza emoji Selezionare Quella che vuoi E cliccare Con il tasto sinistro Sulla scacchiera Puoi scegliere Tra annotazioni Animazioni Emoticon E persino Tra i tuoi personaggi Preferiti Degli scacchi Emoticon Emoji Spariranno Dopo qualche secondo Annotazioni Animazioni speciali Però Rimarranno Sulla scacchiera Finché Non le cancellerai Basterà cliccare L'emoji Con il tasto sinistro O premere Su cancella tutto In fondo alla tavolozza Divertiti Provali tutte Su chess.com A presto A presto A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esploratore delle aperture e le table base. Trova tutte le informazioni chiave sull'evento, programma, premi, risultati, articoli, biografie dei giocatori, spareggi e molto altro. Puoi anche votare secondo il tuo pronostico, sfidando altri utenti. Esplora subito la pagina chess.com slash events da computer o con le nostre app iOS e Android. Segui gli scacchi come non hai mai fatto prima. Grazie a tutti. 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 Ti interessa diventare uno streamer di scacchi come i tuoi creator preferiti? Magari come i Karu, Gotham Chess o Chess Society? Grazie a tutti. Su Twitch e su Twitch e inizia la diretta. Grazie a tutti. 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 Nakamura parla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un pedone. c'è Nakamura. un po' più distinto. ammire per cui godiamoci. di questo spettacolo di questo spettacolo. sta mancando qualche colpettino. di questo spettacolo. ci ha più tempo. questo potrebbe essere un fattore importante. vediamo. se riuscirà se riuscirà. gliela potrebbe far cadere. gliela fa cadere. il caro gli era fatta cadere. vittoria muscolare. questa. vittoria muscolare. questa qui. non bella gli altri fattori. questa batteria. sulla diagonale sembra dovrebbe stare. una camura. l'idea. incredibile. incredibile. continuano. giocare queste strutture. non un po' tutte uguali. è un po' di scoperta. ancora un po' di scoperta. non posso credere. c'è un po' di scoperta. c'è un po' di scoperta. è un po' di scoperta. è un po' di scoperta. è un po' di scoperta. di scoperta. non è un po' di scoperta. guarda. è un po' di scoperta. non è un po' di scoperta. non è un po' di scoperta. qualcuno che è un po' di scoperta. 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 no ma c'è un po' di scoperta. no ma c'è un po' di scoperta. mancano 14 minuti alla fine. fino a poco fa mi sembra che fosse molto più tempo. dovrebbero essere 45 minuti. è vero che il tempo vola ma è passato. no abbiamo iniziato 21.20 non è possibile. adesso si è sistemato. ok non faccio nemmeno un colpo. ho detto ma come è già passato tutto questo tempo. stanno succedendo cose strane. sì. giornata particolare. poi di solito Nagamura fa sempre con la testa. invece stava. non lo vedo molto reattivo ecco. fermo fermo fermo. fermo come sui pezzi eh. non sta proprio. no no no. ha perso un pedone anche qui abbastanza velocemente col bianco. ok. non saprei. insomma se avete notizie. qualche chicca da dirci. da rivelarci. insomma se avete informazioni fateci sapere. insomma come si sente. che cosa dice. durante insomma la sua diretta. che mi interessa giocando. sta anche. facendo. la diretta. lo vediamo no. che. blatera qualcosa. bravo. qui firusa. come approccio. perché si è andato a mangiare il pedone c5. che è quello più fastidioso. adesso minaccia il fiere per h3. torna indietro con la donna. comunque sempre molto veloce Nagamura. eh. bene o non bene. diciamo. ha sempre più tempo. ha sempre più tempo. sì. ma adesso minaccia matto. oh oh oh. il ritorno. il ritorno di Nagamura. che adesso minaccia matto. se ne va col cavallo. li la vuoi rubare questa. forse sta ritrovando. h4. presa nei quattro. sfruttando l'inchiudatura. sta ritrovando lì. aspetta per essere un'idea. è finita. è finita. è finita. è finita. perché donna h8. imparabile. ha ritrovato l'istinto del killer. e. ha accorsato le distanze. ha vinto le ultime due. quindi siamo sei e mezzo. quattro e mezzo. vediamo. vediamo se. riuscirà a recuperare. col nero gioca questa rischiosa difesa. col doppio fianchetto. una specie di ippopotamo. adesso una spagnola. questa è una spagnola fondamentalmente. giusto. una struttura della spagnola. si lascia fare h5. che non so quanto sia una buona idea lasciarsi fare h5. ecco che arriva da parte di firusa. adesso credo che seguirà anche cavallo d2. cavallo c4. giusto. mi sembra giusto. non lo fa. fa b3. ok. quindi probabilmente vorrà giocare contro h6. quindi f3. ok. e poi cavallo f1. re f2. ah cavallo e 2. vediamo un pochino. che setup. vuole fare se qui firusa. questo cambio degli alfiri campo scuro. ha un po' favorito il nero. per Luigi. però è entrato col cavallo c4. il cavallo c4. un po' un fastidio. si. bravo. qui Nakamura a cambiare. il cavallo. da f4. e sta bene il nero. perché può fare g4 quando vuole. sembra la partita di Carlsen dell'altra volta. si. cavallo g3. cavallo g3. e adesso li fa anche g4. g4. ottima. qui potremmo vedere attacchi brillanti. c'è questa torre a 6 che non gioca. torre per f3. torna h6. cavallo g4. torre per f3 inserito. si. perché c'è la torre f1. scacco. adesso però il bianco che sta attaccando un pochino. c'è questa torre a 6 che è rimasta fuori dal gioco. no. attenzione. 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 poi ci sono scoperte. donna c1. bellissima mossa. c'è doppio scacco. esatto. ancora scacco. adesso che li farà. bellissima. su donna per c1. c'è cavallo i2 eh. per la coronaca. esatto. così è andata. adesso si accontenta di mangiarli h4. no. sì. dici le difficili. dici le difficili. il caro che ha più tempo. il caro più tempo. la camora è più bravo. è più bravo. è più bravo. in queste situazioni. lo flagga. lo flagga. lo flagga. arriva il flagga. e perde una torre ferrusa. e vince. il caro una camora. questa è stata bella. bella. e quindi si porta a meno uno. vedi Pierluigi che qua non si può mai cantare vittoria. troppo presto. Anche perché si fa presto a vincere A perdere Insomma Cade di tutto in così poco tempo E mancano 25 minuti e 56 secondi Alla fine del match Quindi Nakamura Non sacrifica un pedone Perché C7 è in presa Sta meglio qui il bianco probabilmente Perché B6 è in presa Però c'è questo alfiere che si è messo in D3 Che è molto forte Ora vediamo se riesce a cambiarlo Con alfiere F1 Però con soltanto 4 torri Poi è difficile vincere Attenzione perché F2 è molto debole La torre si sta incastrando Ok, ho fatto G4 che la liberata Però adesso ti posso fare G5 E non c'hai tante case Sì per difendere F2 no? Ah G3 è stupenda Bellissima G3 Per aprire la traversa Ma non può farlo il bianco Per cui deve dare il pedone F Torre E2 Che capolavoro di Firucia Per dargli matto con le due torri Che bella mossa F1 Torre F1 per far bloccare la casa F1 Che poteva scappare Un bel tema di blocco Vero Pierluigi E poi torre H2 Reggi 1 E torre l'altra torre Reggi 2 a dare matto Esattamente Che bella questa Stupenda 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 Questa partita di Firucia Mi piacciono un sacco Bravo Firucia Sì Altra partita Ok E Ma sempre No questi sistemi 4 di 6 G6 Ok Vediamo Qui il nero Ha perso un pedone Occhio a questo alfiere Che può rimanere un po' incastrato Alfiere B8 Ok No Direi che si è mangiato un pedone Adesso cavallo D7 Forse era la minaccia Ecco perché ha giocato F4 Ok Vediamo un po' Probabilmente dovrà fare A4 E poi B4 anche Ah interessante Per avere la casa D5 Può fare B per C6 E cavallo D5 Cosicché C'è un bellissimo cavallo In D5 E ora vediamo Come porterà Anche l'altro cavallo In gioco E sta meglio il bianco Il pedone in più c'è G3 Un pochino debole Che cosa posso fare In questa posizione Cambia E si va a mangiare G6 D'accordo Forse patta no? Re B7 Re C6 Patta Ah no Vuole giocare per vincere A ogni costo Giustamente Nakamura Ha più tempo A 10 secondi di vantaggio Impressionante Questa velocità E Sì Firucia Gioca col fuoco Perché A un certo punto Forse gli conveniva Fare patta Adesso c'è poco tempo Sì Quando anche dovesse vincere C'è 10 secondi Non di meno Adesso se non succede Qui sta Qui è patta Questa è patta Esatto È patta Però Quante mosse Deve giocare 50 mosse Firucia Quante mosse Fa Nakamura Basta che avanza Adesso sono altre 50 mosse Non la vince Mamma La dura legge La dura legge del flag Esatto Esatto Sapete che no Se non si effettuano cambi C'è catture O spinte di pedoni Per 50 mosse La partita viene Dichiarata patta Però Dichiaro Nakamura Giocando anche la mossa H3 A quel punto Si riconta Quindi insomma Aveva veramente Tanto tempo Per poter vincere la partita Per il tempo Come è contento Come è contento Nakamura Quando le vince così Anche lui Come è come Kalsen prima Felice come un bambino In realtà Ha fatto cadere la bandierina A un avversario Che lo sta Lo sta praticamente Penso che questi giocatori Come è Isultano Quasi per Queste vittorie Veramente Divertente Come si dice Maria So creature Esatto Esatto Sembrano dei bambini Però Guarda Davvero il livello Di gioco Da parte di Nakamura È lontanissimo Da quello Che è il suo standard Io credo davvero Che ci sia stato Qualche problema Non è completamente In forma Sono d'accordo No Perché ha delle posizioni Veramente molto brutte Poi qualcosa Riesce a fare sempre Però Guardate Però sono proprio brutte Anche da vedere Le posizioni Sono posizioni tutte Sbagliate Adesso c'è Alfiere per F4 Che è tatticamente Una bella mossa Perché non si poteva fare Donna per F4 Perché c'era C2 Impresa E quindi Si è rimesso in carreggiata Grazie a questo Artificio Firuza Sta concedendo troppo Perché ha delle posizioni Molto belle E alla fine Sì C'è anche Esatto Torre G7 Adesso si minaccia E G4 Esatto Se faccio G4 Ti do matto Però qui c'è questo bel pedone D Che è pericoloso Chiaro vantaggio Chiaro vantaggio da parte di Nakamura La torre dietro È importante Ok si perde il pedone D Adesso non c'è più nulla Ma cercherà di nuovo Di fargli cadere la bandierina Cosa in cui è molto Oh no ragazzi Si è beccato la scoperta così Si è beccato la scoperta così E ora hanno pareggiato Per cui siamo 7 e mezzo 7 e mezzo Guardate caro come È contento E si carica Eh sì 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 Perché di solito Queste posizioni si vedono Tipo nella siciliana Però qui c'è un cavallo Che l'altro riprende il pezzo Invece no Perluigi C'è un pedone Ok Però continua a giocare Come se niente fosse Giustamente Ci sono ancora un po' di pezzi Non ha ancora preso matto Ok C'è la possibilità Anche di un do Adesso abbandona Il ritorno in vantaggio Firucia 8 e mezzo A 7 e mezzo Beh il match è equilibrato Ci aspettavamo un match del genere Sì anche il fatto Che abbia lasciato Un pezzo in presa così Cioè effettivamente Questo è un altro dato Che Sembra farci intendere Che non è proprio In perfetta forma oggi No Quindi Firucia Ne potrebbe approfittare Ma ha maggior ragione Molto sorprendente Anche qui vedete Sta giocando Senza sviluppare i pezzi Cioè è strano Un giocatore di questo Ref1 No Un giocatore di questo livello Comunque non gioca Posizioni Del genere Vediamo in chat Che cosa ne pensano Di questa sfida Che è Quasi Giunta Circa la mità ormai Che cosa ne pensate Vi sta appassionando Vi piace? Cioè qui Al fili di colore contrario Con vantaggio enorme Da parte di Firucia Da un punto di vista strategico Poi ovviamente Molto bravo A tenerle su Nakamura Anche con l'aiuto Della tattica Delle sue doti difensive Riesce in qualche modo A cavarsela Però Le posizioni che ha Sono decisamente Difficili Da giocare Qui per esempio Deve trovare Uniche mosse Torre F1 Scacco Ok Mamma mia Qua Si rischia Da una parte all'altra Qua si rischia Da una parte all'altra Sembra Avere qualcosa in più Il nero A occhio Sì perché posso fare E3 Torre F8 E3 Arriva Alfiere G6 Alfiere G6 Ok ci sono anche temi Di matto sull'ottava Ora No Si è beccato matto Così Incredibile C'è un fluido magico Nakamura Andiamo L'esulto Vediamo No Insomma Contenuto Si Si è contenuto Questa volta Ne ha rubate di peggio Esatto E più contento Quando vince per il tempo Magari Pierluigi Piuttosto Che da Un matto Sulla scacchiera Che di solito No È quello per cui si va È brutta la posizione Qui Nakamura Sono di nuovo pari Ma Sirusa Potrebbe ritornare in vantaggio Con questa partita Oddio C'è ancora E4 in presa Non si poteva Per via di cavallo E5 E adesso Il pedone 5 Rimane in vita Ed è molto pericoloso Ci dicono Di avere fiducia In Sirusa Per Luigi La famosa Fiducia Sì Alireza Fiducia Ok Torre F1 Torre F7 Non si può permettere Esatto Torre D7 Arriva Ma si minaccia Cavallo F8 Doppio Arrivano tutti Arrivano tutti H4 Adesso H4 H5 Bravo H4 H5 E poi torre F4 Così si fa Bravo Alireza Per dare matto E torre H7 Segue per le torre H8 Dopo i cambi Quindi porta la torre in settima Ma il cavallo si mette in mezzo Ok Semplifica un po' la posizione Molto bravo Molto bravo a difendersi Nakamura Non lo stiamo scoprendo adesso Ma davvero Ha doti Ha grandi doti Difensive Sì Adesso un altro po' Gli dà matto No Torre impresa così No ragazzi Non ci voglio credere Ora si arrabbierà Secondo me Oh mannaggia Che ha detto E vabbè Peccato Si fa sul serio Maidorf Adesso Basta con gli schemini Giochiamo varianti Un po' più Pepate Il bianco gioca In questo caso Per la debolezza Della casa D5 Bella Cavallo H4 Mi piace Per conquistare Le case chiare Però Il nero è riuscito A spingere in D5 Sì Adesso vediamo Se questo centro È forte O è debole Sembra forte Si Si sta proprio allargando G4 H4 Ma sta esagerando Forse un pochino Sembra di sì Ecco Insomma Il controllo del centro Poi qui c'è una bella C'è un bel gioco Con l'alfiera È arrivata a G5 Forse Firucia Non è stato precisissimo Ma G4 Per F6 Per del pionè E4 E qui Rinacia la presina H6 La prima F4 Che chiude la diagonale Cade di 4 Si sta mangiando tutto Qui è entrato un po' In transagonistica Nakamura Sta giocando proprio Con cattiveria Sì Re F2 Ok G5 C'ha capito 5 Ok Torre che prende possesso Della colonna C C'è un po' di pressione Su E3 Calfire 5 Non F7 Che para lo scacco L'F3 Si entra in settima Con la torre Cade il pedone B E qui fichiamo Che match Che match Parità assoluta Di nuovo Sì Insiste Nakamura Con questa moderna H4 Mi piace Ok Ha sempre cambiato Le donne Re D2 Novità teorica Perché Firuza Scuote la testa Per Luigi Penso di sì Penso di sì Ha perso il pedone E4 Addirittura Qui perde E attenzione Perché questa Potrebbe essere La prima volta In caso di vittoria Di Karuna Kamura Che si porta In vantaggio Perché mi sembra Che non è mai successo Finora per Luigi Sì un match Tutto in rimonta Però non ne ha approfittato Bene Non si è riuscito A mangiare Il pedone E4 Ok Se lo mangia Adesso Non si può catturare No perché c'è Torre per E4 Torre per E4 Arriva comunque Esatto a donna E alfiere Quindi deve andare via Comunque è caduto Il pedone E Qui c'è questa Inchiodatura Ma adesso Che coraggio Ma mamma mia Torre per E3 Cavallo F3 D'accordo Lo inchioda Continua a inchiodarlo Bella questa Qui arriverà cavallo Sì sì Cavallo G4 No Cavallo Mangia C2 Prima qualche scacco E poi arriva Cavallo G4 Adesso arriva Il cavallo Arriva anche Alfiere Dove vincere Vediamo Penso di sì Alfiere per F7 Mosso un po' disperata Cavallo per E3 Mangia F7 Il tiro dell'alfiera Tra l'altro Con 30 secondi Sull'orologio E i cannes Passa in vantaggio Mancano 13 minuti E 50 alla fine Guarda Sembra che si sia rimesso Anche proprio come Espressione No? Sì Sta un po' meglio Ok Vediamo Altra partita Qui abbiamo Una Karo Kanno Che è stato Per un bel po' di tempo Il cavallo di battaglia Di Feruja Per Luigi Sì Per rimontare Ha scelto la sua Sì È un po' lo stile Di Nakamura Si mette in grande difficoltà All'inizio E poi la tiene La tiene La tiene E poi in qualche modo Con un colpo tattico Riesce a portarla a casa Non è un gioco Diciamo Al 100% corretto Non è un gioco Che tutti possono fare Perché bisogna avere Davvero doti Di equilibrista Sì Perché poi La tensione del tempo Stare in una posizione Inferiore Difendersi Non stare tutto il tempo Così Non è per niente facile Ok Torre C7 E H5 Si attacca Si minaccia H6 Ad un certo punto E arriva I5 Re che si sposta Dallo scacco C3 H6 che arriva G6 Eccola qua Ok C'è insomma Qualche casa di Ebole Intorno al Re Alfiere Camposcuro Lontano Che dice Si è messo bene Si è messo bene C'ha 30 secondi C'ha un pochino Di vantaggio Sull'orologio E qua Alfiere H6 Alfiere G7 Diamo matto alla donna Incredibile Mai visto un matto del genere Matto alla donna E abbandona davvero Più 2 per i caro Nakamura Siamo a 11 e mezzo A 9 e mezzo Questo non l'avevo mai visto Maria Tu l'avevi mai visto una cosa del genere Capita raramente di vedere una donna All'angolo Cioè in pratica Veder giocare questi qui È come vedere un match Dell'intelligenza artificiale Loro vanno avanti Giocano 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 Qualcosa esce fuori E alla fine magari Si scoprono anche Eh si Qui non vanno Non vanno per il sottile Qua proprio Li da H7 Si sta arrabbiando ora Ehi caro Ha sgranato gli occhi Adesso li farà i 5 E 5 Si deve fare in queste posizioni Alfiere G5 Alfiere H6 Adesso li farà Con calma Semplifica un attimino la posizione Bella perché crolla la di donna E adesso vediamo se li fa C5 Pronto ad avanzare questo pedone Che non si blocca facilmente Deve fare blocco in D8 Torre D6 Ah si minaccia Torre D6 Infatti gioca Alfiere D5 Ma cade anche A6 Torre B6 A3 Torre C6 Per inchiodare Ma B4 Ok si minaccia Torre per D7 Visto che C5 È inchiodato Ma Alfiere allontana la torre Adesso va avanti Con questo pedone Probabilmente farà una torre H2 Scacco Semplifica Vabbè qui Firocia dovrebbe vincere Vediamo il tempo Ha giusto qualche secondo Ma dovrebbe farcela Adesso attacca la torre I caro una camorra Abbandona Abbandona E si ricomincia 11 e mezzo A 10 e mezzo Firocia a meno 1 Vedete che Nakamura È passato a giocare 4 Vuole giocare un po' più Seriamente Abbiamo una dichiesa siciliana Pierluigi ora Una variante Scheveningen Il bianco sceglie il fianchetto Vedete che Nakamura Continua sempre a giocare Queste aperture Con molta traspuratezza Non gli interessa Più di tanto l'apertura Si si mette sempre In una condizione Comunque difficile Diciamo Parte sempre così Cavallo C3b1 Incredibile Giocatori Ok Sì ma questa è proprio brutta Cavallo C3b1 È una mossa Che proprio Non si può vedere Ok Cavallo D4 Poi le tiene La cosa curiosa È che poi le tiene Cioè Se capita a me Una posizione del genere Duro 10 mosse altre Invece Le tiene Come se non te fosse E la cosa bella È che lo fa Contro avversari Comunque no Del suo livello Pierluigi Quella è la cosa fenomenale Lo fa con avversari Del suo livello E pensando Pensando c'è anche poco Ce lo fa con grande facilità Alla fine Che lo punirebbero Invece Non si riescono Qui se ne va con la tua Risolve In realtà Mi fa un po' ridere Perché è di quelle posizioni In cui hai così tanti problemi Che ogni volta Migliori la posizione Semplicemente perché Risolvi un problema Qui però La vedo male No? La vedo un po' male Sta cercando un controgioco Contro il re Con cavallo G3 Cavallo F5 Ma senza la torre Non porta a niente Questo controgioco Qui vedete Bella cavallo F4 Perché crea dei temi di matto Torre B1 Adesso li potrebbe mangiare Anche un po' tutto Non c'è il perpetuo Perché torre B2? Ah c'è il perpetuo? Ah no Perché lei può scappare Non è nell'angolo ancora Ok Qui panico da poco tempo Per Fiduja Però Sembra che sia Nakamura Di aver commesso L'ultimo errore Bella Bella Bel sacrificio Adesso andrà Don Incredibile Fiduja Parità Maria Parigia il match Che match oggi Veramente Questa finale Del giro dei vincitori È pazzesca Per Luigi Questo è tostissimo Un bel testa a testa oggi Ok Intanto io invito Le persone che ci seguono Su Youtube O comunque anche Quelli su Twitch A lasciare un like Alla nostra diretta YouTube Grazie a tutti Arriviamo a 300 like Ok Alfiere C5 Si cambiano gli alfi Di campo scuro Arriva lo scacco in G3 Re H8 Donna H4 Attacca il cavallo Adesso su donna E7 E D6 Attenzione a fare questi errori Cavallo G8 Per difendere il cavallo No sarebbe arrivata La deviazione Ok Ah Torre in settima Si minacciava matto Cavallo F6 Per difendere Torre D8 Oh Sulla presa Vuole giocare Donna per F6 Poi Donna per D8 Ma La donna va difendere Colpo da maestro Ma non attacca Si Ok Attenzione ai matti Sui del queriduoio Regi 7 Scacco Casa di fuga Ok Cade il pitone F4 Qui ci potrebbe essere Un perpetuo Patta 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 Penso patta Maria Si Probabilmente si Ah Ok Si Arriva il perpetuo In caro ritorna col bianco Adesso contro la siciliana Gioca questa F4 Cavallo C3 F4 Questa linea chiusa Pierluigi Si però poi adesso diventa una variante aperta Adesso sta bene Perché è riuscito ad arroccare lungo In un contesto Una situazione in cui non è facile Per il nero attaccare l'arrocco lungo Cavallo A5 Bella Re B1 Adesso devo fare Probabilmente Per mangiare col pedone C No Donna F2 Ok Torre B8 Mossa un po' misteriosa Tante masse misteriose Cavallo C5 Fa interferenza Il cavallo ritorna in C4 Com'è questa struttura adesso per Luigi? Eh Diciamo Dovrebbe essere vantaggiosa per il bianco Perché vedete che sta Riuscendo ad attaccare Adesso qui ci potrebbero essere dei sacrifici Per dare matto Ma in generale è buona per il bianco Questo tipo di struttura Certo adesso si è messo col cavallo in D1 Cavallo G4 Si minaccia E cavallo per H6 Potrebbe essere L'alfiere che chiude la strada a ring Sulla diagonale Sicuramente Sicuramente cavallo per H6 Fortissima E come si impedisce Vediamo Vediamo Ecco cavallo per H6 Gliela fa lo stesso Gliela fa lo stesso Mi lascia la torre Mi la gioca comunque Mamma mia Alfiere C4 Chiude la diagonale Si minacciava un doppione 6 Ha sprecato Ha sprecato una camura Perché stava molto meglio Adesso qui è soltanto una posizione Ha perso Si è lasciato in golosiera Ha perso a quanto pare Ma non è facile Guarda 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 Se ne scappa col re Si resiste Attenzione perché Mamma mia Che capacità di recupero ragazzi Eh non c'è tempo Firuza Non c'è tempo No e qui deve ripetere Mamma mia Stupendo Ancora parità Ancora parità Questo è un match epico Si 12 e mezzo A 12 e mezzo Mancano 5 minuti e 46 secondi Alla fine del match E bisogna avere un vantaggio Di più 2 Ricordo per vincerlo Davvero leggendario Stiamo proprio Sono a testa a testa Nessuno molla Allora Sì dalla chat Scrivono Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Vero Allora Continuiamo Si riprende Allora Firuza col bianco Incaro Nakamura Spinge il pedone H G3 Che arriva anche il cavallo In G6 G4 Chiude Chiude il gioco Alfiere 13 Cambiano le donne B5 Che te ne pare Buona buona la posizione Di Nakamura Qui sta sta giocando Molto bene Il suo gioco È salito di Intensità Anche di livello Prettamente tecnico Sta giocando bene adesso E5 Ok Sì perché Gli mancano case per i pezzi Ma adesso Anche a 4 È molto forte Semplicemente cavallo per i5 Come ha fatto Adesso si va a mangiare B2 No no Vantaggio decisivo Perché il re nero Il re bianco È messo in una rete di matto Praticamente Guardate lì Adesso è pronto ad entrare Con l'altra torre E dare matto in H2 Sì Questo lega i pezzi bianchi Che non possono fare Chissà che cosa Torre B1 necessaria Arriva il pedone C Si cambia La torre tra l'altro Controlla anche il pedone D Sì La casa di promozione Difesa È controllata dall'alfiere È andata Grande Grande efficienza È il cavallo per i2 Donna E se dalla qualità Diciamo Andiamo proprio matto Grande efficienza di Nakamura Che sembra aver trovato La chiave un po' del gioco Sì Nakamura Che passa in vantaggio Ora di un punto 13,5 12,5 E adesso è il bianco Attenzione Schema d'attacco classico Si minaccia E5 Probabilmente E cavallo B4 Serve a togliere Questo fastidioso Alfiere Perché su E5 Credo Cavallo per D3 E se prendi un F6 Non hai due pezzi Un po' cassino Se prendi un F6 C'è da calcolare Un po' Quello che succede E loro l'hanno già calcolato tutto Forse già la conoscono Comunque Già la conoscono Già le conoscono Queste cose già le conoscono Cos'è successo qua per Luigi È successo che se ne è uscito bene Firuza Sì 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 Sulla siciliana lo vedo forte Firuza Sì Mi piace Mi piace come maneggia Per così dire la siciliana Molto bravo Molto molto bravo Torre C4 Ok Cavallo sotto attacco Fantastico Non puoi spostarlo Perché ti mangio ne 4 Bello E' finita E' finita qui In maniera potente Ride Ride Nakamura Sa che è finita Alfiere per E4 Scacco Cavallo E6 Eh sì Si può prendere Ne 4 Scacco Io farei Vediamo Sta calcolando Perché c'è anche Torre per D1 Donna per D6 No No ragazzi Ha fatto Torre per D1 Ha perso la donna Perché anche se fa Torre per F1 No questo Si prende matto Si prende matto Si prende matto Cioè Non so se Ha fatto un errore di calcolo Eh sì Perché Non ho visto reazioni Non sono riuscito a vederlo Ma E' crollato un po' Sotto la tensione Hai visto per Luigi Se aveva fatto Insomma Se aveva lasciato intendere qualcosa Dopo la donna In per esempio D6 Sì 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 Si ha disperato Chiaramente sì sì Chiaramente è stato un errore di calcolo Eh Adesso deve subito Se deve Adesso ha due partite da vincere Se non vince queste due partite Ha perso Ah ah E devo dire che Sì ora abbiamo Un vantaggio di più 2 Per Icaro Nakamura Quindi Firuza Deve assolutamente vincere ora Mancano due minuti Alla fine Ok Donna H6 Firuza in posizione di attacco Si minaccia matto Icaro minacciato No scusate donna C3 Sì E' andato a difendere il cavallo Visto che B2 è inchiodato Ok Come si può E5 Intanto elimina Cioè manda via il cavallo Che difende la rocca Lo devia Esatto Vuole fare cavallo E4 Oh ma Cf5 inchioda Si è beccato al Cf5 C4 Non va bene Non va bene Torre H2 Deve a fare Ma si prende torre per B2 Scacco Aglia aglia No e questa la chiude E poi E poi E poi E poi Sarà come morire Perché su cavallo H5 Su cavallo H5 Donna H3 Non la capisco Cosa sta minacciando Torre per A2 Scacco Che bravo Bella Minaccia torre per A2 Scacco Ah bella Torre per A2 Sgombera la casa B2 Per la donna Adesso Adesso si è caricato Adesso si è caricato Si è caricato Si è caricato Nakamura 12 15 e mezzo 12 e mezzo Ormai ha vinto Firuza un po' no Un po' scontento Sa che non ce la fa recuperare E Ah Caspita Sta pure vincendo questa Firuza sta quasi sulla soglia delle lacrime Eh sì Sicuramente dispiaciuto Perché aveva fatto una partenza strepitosa Ma Come vedete Mi cavano una camura Non ci sta Non ci sta a perdere Mendecare alla pelle Ha fatto un recupero grandioso Sì devo dire che Ha iniziato il match Giocando Decisamente sotto tono Poi però Un po' alla volta Un po' alla volta Un po' alla volta Come quando uno difende Una posizione inferiore A volte succede Che uno si difende Si difende Si difende Si difende Qui ha lasciato una torna Vediamo Aiuto Vediamo se commenta In qualche modo Ride Ride Perché giustamente Sta vincendo il match Quindi Se la puoi ridere Sa che È stato il tempo E abbandona Sa che è l'ultima Firuza Esce con grande onore Sì E quindi Pierluigi Icaro Nakamura Vince la finale I vincitori E domani Con calma Potrà attendere Il suo sfidante Che sarà uno Tra Vediamo Vedremo intanto Chi vincerà Tra Narodischi E Karsen Dopodiché Il vincitore Sfiderà Prima Firuza E poi dovrà sfidare Icaro Nakamura Quindi non posso immaginare Chi vince Tra Narodischi E Karsen E dovrà fare Tutto questo percorso Giocare una marea Di partite Per arrivare A giocarsi La gran finale E in quel caso Come vedete Dove c'è scritto Gran finale Con il nome Di Karo Nakamura C'è il doppio risultato Perché Nel caso in cui Il sfidante Di Karo Nakamura Dovesse vincere Il primo match Ci sarà Un secondo match Quindi Ti immagini Potrebbe Diciamo che Ci auguriamo Un po' tutti Senza fare finta Di Di pensare Altre cose Ci auguriamo Che la finale Sia proprio Nakamura Contro Karsen Ci auguriamo Che vinca Karsen A quel punto Per avere Un match diverso Perché Nakamura Firuza L'abbiamo già visto E' anche vero Che se Karsen Dovesse battere Narodischi Così come Da pronostico Avendo Il favore Dei pronostici Comunque Ci sarà Di nuovo Karsen Firuza La rivincita Vedremo Se Karsen Se la riprenderà Per Luigi Ma dipende Da tante cose Dipende Se Karsen Va al mare Domani In Spagna Oppure no Dipende Se stasera Va a dormire Presto Oppure no Secondo me Secondo me Fai il bravo Questa sera Fa il bravo Visto che Ormai Eh ma Si è tagliato I capelli Non lo so Dipende Ma si ce li Se li è tagliati No Non lo so O se li raccolti Dietro non si vedeva No no Tanta sottigliezza Ho smesso di interessarmi E poi L'altra cosa importante da capire E se ascolterà di nuovo la musica dei jazz bra Perché a quel punto se ascolta la musica terribile dei jazz bra Potrebbe avere dei grossi problemi Si Fatto sta Che Karuna Kamura è il favorito Perché insomma Il suo avversario Che l'avversario che avrà domani sarà stanco E anche se avrà giocato tante partite Per cui avrà fatto Insomma Sarà bello allenato Però sarà anche stanco E Sicuramente Il fatto di avere la doppia chance Insomma Gioca in suo favore Quindi può Magari fare un passo falso Una volta Però poi dovrebbe farlo anche la seconda Quindi diciamo che I Karuna Kamura Al momento Sembra Favorito Favorito Sì Per la vittoria finale Vedremo se sarà così Anche perché La stanchezza Come dicevi tu È importante Cioè Giocare tutte queste partite Cioè Dopo un po' Secondo me Uno comincia a perdere lucidità Eh sì È vero Sì Giocare a queste cadenze Non così veloci Una partita dietro l'altra Anche secondo me Per il regime Dopo un po' Si perde De lucidità Anche a questo livello Bisognerebbe fare un solo match Un solo match Quindi Nakamura Domani ha l'occasione Di chiuderla lì Se si becca L'avversario stanco Ci sono ottime probabilità Ok Quindi noi vi ringraziamo Per essere stati con noi Nella giornata internazionale Degli scacchi Grazie veramente a tutti Mi raccomando Ricordatevi Di festeggiarla Nel migliore dei modi Di solito Anche un modo Per festeggiare È quello di insegnare A qualcun altro A giocare a scacchi C'è anche questo Che spesso si fa In questo giorno Poi vi ricordo Ancora una volta Punto esclamativo Chess Day Per vedere tutte le proposte Di chess.com Ricordo che c'è un mese Gratuito Per l'abbonamento Ma Diciamo Quello più importante Di chess.com Che tutti quanti voi Potete beneficiare Quindi Di solito C'è soltanto Una settimana di prova Avete invece Un mese di prova E questo Lo può usare Anche chi Ha già effettuato La settimana di prova Quindi veramente Una bella occasione Per provare Tutte le funzioni Di chess.com Ricordo anche Di seguirci sui social Pierluigi o controllo Vediamo Se abbiamo Raggiunto I 5.000 follower Su chess.com L'account Instagram Siamo a 4.994 Mancano 6 persone Ah 6 persone Pierluigi Per festeggiare Proprio Nel miglior dei modi La giornata internazionale Degli scacchi Ci riusciremo Entro questa sera Io ogni tanto Vado a controllare Mi raccomando Potremmo 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 Contiamo su di voi Siamo vicini Potremmo farci Sì Punto esclamativo Social Qui su Twitch Vi Vi lascio il link Anche su Youtube E quindi domani Grande giornata Sempre dalle ore 18 Mi raccomando Non mancate Ora vi dico Un attimo Gli orari Allora Eccoci qua Social Allora Pierluigi Adesso Diamo un po' Di notizie Ok Ecco qua Anche per gli amici Di Youtube Allora Controlliamo Quindi domani Si comincerà Chiaramente Della semifinale Dei ripescati Ci sarà Carson Contro Narodisca Alle ore 18 Poi Alle 18.50 Ci sarà Alireza Firucia Che giocherà La finale Dei ripescati Contro il vincitore Del match precedente E infine Alle 19.45 Ci sarà Appunto La gran finale Tra i cari Nakamura Il vincitore Del girone Dei ripescati Queste sono le informazioni Quindi domani Scopriremo Il vincitore Del bullet Chess Championship 2023 E non è finita Qui stasera Perché Mi raccomando Adesso andate a seguire Chess Society Direttore italiano Di chess.com Che per la giornata Internazionale Degli scacchi Sta facendo una bella Irl A Lecce Pierluigi Vicino a casa tua Fantastico Ora raggiungi Magari Ora vediamo Ora vediamo Fantastico Quindi facciamo Un bel ride A Chess Society Grazie a tutti Ci vediamo domani Ore 18 Mi raccomando Non mancate A domani Ciao a tutti Ciao Pierluigi A domani Ciao A domani Sapevi che puoi aggiungere Emoji alle tue scacchieri Di analisi Nelle partite online? Basta cliccare Sull'icona della tavolozza Emoji Selezionare quella che vuoi E cliccare con il tasto sinistro Sulla scacchiera Puoi scegliere Tra annotazioni Animazioni Emoticon E persino Tra i tuoi personaggi Preferiti degli scacchi Emoticon Emoji Spariranno Dopo qualche secondo Annotazioni Animazioni speciali Però Rimarranno sulla scacchiera Finché non le cancellerai Basterà cliccare L'emoji Con il tasto sinistro O premere Su cancella tutto In fondo alla tavolozza Divertiti Provali tutte Su Cess.com Iniziamo Con il tasto sinistro Emoji Con il tasto sinistro Iniziamo Per il tasto sinistro Grazie a tutti.